Ehi, che cos'è? Beh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. Ed è un orlondo sai che io ti troverò. Ovunque tu sarai, ti triggerò. E stringerò il controller fra le mani, mentre cercherò il tuo hitbox, che splendido nell'ombra apparirà. Pimpato come adesso, non lo sono stato mai. E quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia clima arriverà, ma va 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 è terribile lo prendo come un complimento buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti ben ritrovati su Wesa Twitch oggi 12 gennaio 2022, benvenuti benvenuti ragazzi, grazie di essere connessi come al solito oggi gran giorno, insomma, gran giorno è un giorno a lungo atteso, no, com'era ho già visto, innanzitutto grazie mille Emi, grazie dei 17 di essere qua ho già visto che qualcuno ha fatto la giusta citazione, com'era, dovremmo noi morire a mille leggo il pendolo intero abbiamo già fatto sta gag, why not ovviamente il counter è esattamente sui 600 se scende sotto i 600 pokemon, se sale sopra il fascismo eterno, quindi potremmo avere un rimbalzo un effetto radio, interferenza diciamo e poi pensiamo che cosa fare a 700 qualcosa di bello qualcosa che sia una figata insomma e in ogni caso vi ringrazio vi ringrazio per il vostro supporto 600 il record in realtà l'abbiamo toccato ieri che è stato 606 4 604 credo una cosa del genere Umberto Eco era snob chi lo sa bisognava chiederlo a lui Sullivan no damage esatto una settimana di live perché no una maratona ininterrotta allora ragazzi siamo qui riuniti perché c'eravamo dati questa gag che a 600 sub avremmo avremmo fatto la lettura in live del fascismo eterno me ne avete mandate tra l'altro diverse versioni comunque ora ve lo metto a schermo e che cosa volevo dire in tutto questo abbiamo abbiamo un problema non sono blind pleticosa però comunque mi riservo di di tenere aperto internet nel caso di riferimenti di cui non ricordo assolutamente una fava c'è un problema il problema è che io prima mi sono riletto le prime pagine e ho già versato calde lacrime io non so come mi sia venuto in mente di di darvi questa idea ecco cioè di non darvi di di accettare questa idea perché per me è totalmente impossibile leggere un testo del genere io non so che cazzo mi sia passato per la testa è impossibile che io legga questa cioè ci proviamo ci proviamo però per me c'è talmente lagrime virili ovviamente c'è talmente tanta c'è talmente tanto dentro questo testo e non è assolutamente uno dei suoi testi più pregni però è comunque importante è veramente un e che già ci sono delle cose che in realtà già dovremmo aprire parentesi nel senso ci sono delle cose ho letto un po' le prime pagine ci sono delle cose che bisogna un attimo specificare cioè non è che poi siamo di fronte a domine addio però secondo me comunque è un testo veramente importante e quindi fusaro mi ricordo mi ricordo e quindi ragazzi ci proviamo io non so che cosa salterà fuori grazie mille a Rosberg non so se Nico o Cheke grazie del prime degli undici facciamolo io che cosa vi devo dire facciamolo sono un po' in difficoltà già adesso allora una cosa in realtà da un punto di vista psicologico vedete vedete ogni lacrima è una buona una cosa molto importante da un punto di vista psicologico è questo anzi è una domanda che mi voglio porre perché questo testo mi commuove che uno dice ma che carla commuoviti per non lo so Titanic perché questo testo mi commuove io vorrei chiedermi perché in realtà è importante cioè alla fine sono emozioni forti e uno dovrebbe capire perché una certa cosa ti emoziona fortemente ti dice qualcosa di te io soprattutto quando sento parlare della resistenza soprattutto quando sento parlare di antifascismo nonostante queste cose siano oggi tirate per la giacchetta da persone di cui non condivido molte posizioni ho proprio dei trigger ho proprio dei trigger sono cresciuto educato a questi valori più che dalla mia famiglia è dal mio quartiere se devo dire la verità e sono proprio delle cose che ce le ho vicine al cuoricino ce le ho vicine al cuoricino e mi fanno veramente mi emozionano e poi mi emoziona molto anche il modo di scrivere che ha Ecco che ce l'ha anche Paolo Rossi ad esempio e ce l'hanno veramente in pochi che è questa soprattutto quando vuole quando vuole Ecco che ha questa limpidezza è molto limpido il modo di scrivere di ragionare molto semplice apparentemente semplice in realtà è tutto il modo di scrivere è saggistico di Ecco per letterario che sia per me è estremamente etico sento sempre molto la posta in gioco di questi testi poi un testo come questo che è piccino ma la posta in gioco è enorme è una bella è una bella mazzata è una bella mazzata emotiva però la sfida è la sfida è cioè che cazzo siamo in diretta ma che cazzo ma che ci vuole e insomma allora esatto Dario tra le altre cose vi ricordo che ma questo non dipende da voi dipende dal destino se Silvio Berlusconi dovesse essere adesso lo vediamo Samdokan perché c'è un'introduzione che spiega tutto se Silvio Berlusconi dovesse essere eletto presidente della Repubblica Italiana vi ricordo che non potendo io più mettere in live la sigla per fortuna Silvio no meno male che Silvio c'è perché assolutamente copyrightata canterò con testo sotto meno male che Silvio c'è ma questo non potete non potete non potete propiziarlo con le vostre sub lo vorrà la sorte il destino il Big Bang l'ha già voluto lo scopriremo lo scopriremo a breve in realtà e quindi un po' un po' ci spero presidente siamo contenti immaginatevi le stonature se arriviamo a 6.50 Berlusconi presidente stop mettiamo a schermo il testo e poi la libertà ho letto scusate molto di sfuggita che anziché i falsi finali abbiamo le false partenze qualcuno mi chiedo scusa l'ho letto proprio di sfuggita con la coda dell'occhio in chat qualcuno di voi può essere che abbia scritto la libertà è commovente è così è tu Angelo è così come facciamo a fare sta live quando sarò in difficoltà dovrò assolutamente canticchiare meno male che Silvio c'è quindi me la voglio poi tra l'altro mi tocca usare questo cazzo come si chiama il nuovo edge sono su microsoft edge ma che è microsoft aspettate che mi apro un secondo meno male che Silvio c'è ok questo me lo devo tenere lì di fianco perché è assolutamente fondamentale in caso di commozione la gente della libertà la libertà è commovente qua c'è la gente della libertà e quindi i fazzoletti ma ragazzi mi sto imbarazzando sono un cretivo mi chiedo umilmente scusa ognuno ha i suoi limiti io ne ho tanti questo è gigante quindi voi vedete questa quindi aspettate che questo forse lo devo un attimo ristringere fatemi vedere come lo vedete no no in realtà va benissimo lo stesso no tanto lo vedete bene vediamo ma sì forse posso anche fargli uno zoomino aspettate aspettate che io sono nel futuro dai fai sto zoom ma ho cliccato nel passato zoom ancora ok va bene va bene va bene è leggibile è leggibile è leggibile ci guardiamo un po' di NFL dai ragazzuoli allora innanzitutto la premessa che ci contestualizza tutto senza nessun bisogno che lo faccia io perché lo fa l'autore che è il nostro defunto Umberto Eco il fascismo eterno è stato pronunciato quindi questa è nota dell'autore è stato pronunciato in versione inglese quindi è un testo che nasce grazie mille Artifex grazie dei 22 grazie del supporto angelo caro il fascismo eterno è stato pronunciato in versione inglese a un simposio organizzato dai dipartimenti di italiano e francese della Columbia University il 25 aprile 1995 sigla per celebrare la liberazione dell'Europa che coglione che sono è poi apparso come eternal fascism se lo leggessi in inglese sarebbe così comico che andremmo sereni su the New York Review of Books 22 giugno 1995 ed è stato tradotto su la rivista dei libri di luglio-agosto 1995 come totalitarismo fasi e urfascismo versione che si distingue da quella che qui pubblico solo per qualche lieve riaggiustamento formale quindi ism ism è ism quindi il il testo nasce in lingua inglese ok ed è un discorso di un simposio quindi immaginate una conferenza per un pubblico americano colto e studenti sicuramente non soltanto americani probabilmente visto il dipartimento italiano e francese immaginatevi che uno che sa quello che fa che compone un testo per questo tipo di auditorio la stessa sintassi del testo è pensata per questa situazione poi sarà stato riaggiustato appunto per la versione librino ma questa è una cosa da tenere a mente e da tenere a mente qual è l'auditorio è comunque un auditorio americano ok occorre tenere presente che il testo era stato pensato per un pubblico di studenti ma perché io dico le cose che le dice una riga ragazzi ho un problema ho un morbo ma perché faccio sempre sta stronzata ma occorre tenere presente che il testo era stato pensato per un pubblico di studenti americani ed era stato pronunciato nei giorni in cui l'America era scossa dall'attentato a Oklahoma City perché io ho pensato Russell Westbrook non lo so e la scoperta del fatto per nulla segreto che esistevano negli Stati Uniti organizzazioni militari di estrema destra quindi il tema dell'antifascismo assumeva particolari connotazioni in quella circostanza e la riflessione storica voleva incoraggiare una riflessione su problemi d'attualità in diversi paesi oggi è ancora più d'attualità anzi troveremo dei passaggi di un certo ottimismo col senno di poia la conferenza è stata poi tradotta da giornali e riviste in numerose altre lingue il fatto poi che il discorso fosse rivolto a giovani americani spiega perché si forniscono informazioni e precisazioni quasi scolastiche che a noi faranno molto comodo su eventi che un lettore italiano dovrebbe conoscere e perché ci sono citazioni di Roosevelt allusioni all'antifascismo americano o insistenze sull'incontro tra europei e americani nei giorni della liberazione il titolo è il fascismo eterno infatti no ma è accessibilissimissimissimo è un testo per bambini per eco forse allora qui naturalmente che cosa fa il buon Umberto inizia con un po' di biografia dell'autore inizia raccontando un pochino la sua vita e sono cose di rilievo per quello che andrà a raccontarci nel 1942 all'età di dieci anni vinsi il primo premio ai ludi juveniles un concorso a libera partecipazione coatta per giovani fascisti italiani e vi prego di godere di questa meraviglia libera partecipazione coatta per giovani fascisti italiani vale a dire per tutti i giovani italiani avevo elaborato con virtuosismo retorico sul tema dobbiamo noi morire per la gloria di Mussolini e il destino immortale dell'Italia la mia risposta era stata affermativa era un ragazzino sveglio un ragazzo sveglio poi nel 1943 scopersi il significato della parola libertà racconterò questa storia alla fine del mio discorso in quel momento libertà non significava ancora liberazione ho passato due dei miei primi anni tra SS fascisti e partigiani che si sparavano l'un l'altro e ho imparato come scansare le pallottole non è stato male come esercizio e oggi diremmo flexino scusate per questa chiedo scus l'avevate già scritto l'avevate già scritto ci addone l'avevate già scritto che l'avevate scritto l'avevate scritto indecenti indecenti indegni un po' ci addone un po' ci addone flexino flexino ci addone nell'aprile del 1945 i partigiani presero Milano e anche qua si flex basta dai ragazzi perché lo dico a voi è che però ridere aiuta i partigiani presero Milano due giorni dopo arrivarono nella piccola città dove vivevo fu un momento di gioia la piazza principale era affollata di gente che cantava e sventolava bandiere invocando a gran voce Mimo il capo partigiano della zona Mimo ex maresciallo dei carabinieri si era messo con i badogliani e aveva perso una gamba in uno dei primi scontri si fece vedere al balcone del municipio appoggiato alle sue stampelle pallido cercò con una mano di calmare la folla io ero lì che aspettavo il suo discorso visto che tutta la mia infanzia era stata segnata dai grandi discorsi storici di Mussolini di cui a scuola imparavamo a memoria i passi più significativi silenzio Mimo parlò con voce rauca quasi non si sentiva disse cittadini amici dopo tanti dolorosi sacrifici eccoci qui gloria ai caduti per la libertà fu tutto e tornò dentro la folla gridava i partigiani alzarono le loro armi e spararono in aria festosamente noi ragazzi ci precipitavamo a raccogliere i bossoli preziosi oggetti da collezione ma avevo anche imparato che la libertà di parola significa libertà dalla retorica e qui è interessante notare che Eccusa molto spesso naturalmente usa il termine retorica nell'accezione volgare l'affettazione del discorso ok libertà di parola è anche libertà dalla retorica in questo senso alcuni giorni dopo non è un racconto puoi vedere che questo è un racconto introduttivo alcuni giorni dopo vidi i primi soldati americani erano afroamericani il primo yankee che incontrai era un nero Joseph che mi fece conoscere le meraviglie di Dick Tracy e Lee Labner che erano fumetti perché non sto zitto i suoi fumetti erano a colori e avevano un buon odore uno degli ufficiali il maggiore o capitano Muddy era ospite nella villa della famiglia di due mie compagne di scuola ero a casa mia in quel giardino dove alcune signore facevano crocchio intorno al capitano Muddy parlando un francese approssimativo il capitano Muddy aveva una buona educazione superiore e conosceva un po' il francese così la mia prima immagine dei liberatori americani dopo tanti visi pallidi in camicia nera fu quella di un nero colto in uniforme giallo-verde che diceva oui merci beaucoup madame moi aussi j'aime le champagne sfortunatamente mancava lo champagne ma dal capitano Muddy ebbi il mio primo chewing gum e cominciai a masticare tutto il giorno di notte mettevo la cicca in un bicchiere d'acqua per tenerla in fresco per il giorno dopo bonjour Paris jefra azuc colleghiamo mondi in maggio sentimmo dire che la guerra era finita i veri fan di eco bramano quel chewing gum grazie ragazzi in maggio sentimmo dire che la guerra era finita la pace mi diede una sensazione curiosa mi era stato detto che la guerra permanente era la condizione normale per un giovane italiano nei mesi successivi scopri che la resistenza non era solo un fenomeno locale ma europeo imparai nuove eccitanti parole come reso ma chi armé secrete rote capelle non saprei come umilmente chiedo scusa non so esattamente come si pronunci ghetto di Varsavia vidi le prime fotografie dell'olocausto e ne compresi così il significato prima di conoscere la parola la parola olocausto mi resi conto da che cosa eravamo stati liberati in Italia vi sono oggi alcuni che si domandano se la resistenza abbia avuto un reale impatto militare sul corso della guerra per la mia generazione la questione è irrilevante comprendemmo immediatamente il significato morale e psicologico della resistenza era motivo d'orgoglio sapere che noi europei non avevamo atteso la liberazione passivamente penso che anche per i giovani americani che versavano il loro tributo di sangue nella nostra libertà non fosse irrilevante sapere che dietro le linee c'erano europei che stavano già pagando il loro debito stavano già bello non lo so tiz non lo so sulla resistenza voi dovete leggere le lettere le lettere dei condannati a morte della resistenza italiana c'è un grande sogno che vive in noi e siamo la gente della libertà presidente siamo con te meno male che Silvio c'è siamo la gente che ama e che crede che vuol trasformare il sogno in realtà presidente siamo con te meno male che dicevo l'introduzione delle lettere dei condannati a morte della resistenza italiana è molto importante un testo è molto testo documentario è molto importante è di Zagrebelsky spiega la differenza qualitativa fra la resistenza italiana e altre must read credo che sia nel Weza Shop se non c'è sono un imbecille e basta sta cosa allora in Italia c'è oggi qualcuno che dice che il mito della resistenza era una bugia comunista esatto pagliaio ma il barbatrucco hai ragione guarda grazie rituale scusami se non te ho ringraziato guarda pagliaio che ha scritto una cosa fondamentale il barbatrucco è farsi consigliare i libri fighi il barbatrucco è questo stronzo qui perché iniziare a leggere e studiare da Umberto Eco per me è stato come approcciare un giallo partendo dal nome dell'assassino cioè partendo dalla fine cioè questo autore qui che si è fatto un culo grande come un pianeta al posto mio mi ha fatto leggere talmente tanta roba che lui ha fatto il lavoro per me cioè è allucinante cioè Eco è il barbatrucco leggere è il barbatrucco Eco è il barbatrucco di leggere io ve lo dico proprio schiettamente questo vi fa il lavoro fa il lavoro al posto vostro e ve lo ripeto in Italia c'è oggi qualcuno che dice che il mito della resistenza era una bugia comunista è vero che i comunisti hanno sfruttato la resistenza come una proprietà personale dal momento che vi ebbero un ruolo primario ma io ricordo partigiani con fazzoletti di diversi colori appiccicato alla radio passavo le mie notti le finestre chiuse l'oscuramento generale che faceva del piccolo spazio intorno all'apparecchio l'unico alone luminoso ascoltando i messaggi che Radio Londra trasmetteva ai partigiani erano al tempo stesso oscuri e poetici il sole sorge ancora le rose fioriranno e la maggior parte erano messaggi per la Franchi qualcuno mi bisbigliò che Franchi era il capo di uno dei gruppi clandestini più potenti dell'Italia del nord un uomo dal coraggio leggendario Franchi divenne il mio eroe Franchi il cui vero nome era Edgardo Sogno era un monarchico così anticomunista che dopo la guerra si unì a gruppi di estrema destra e venne anche accusato di aver collaborato a un colpo di stato reazionario ma che importa Sogno rimane ancora il sogno della mia infanzia la liberazione fu un'impresa comune per gente di diverso colore grazie grazie Oscar io non so come ve ne uscite con questi nick grazie mille Oscar Luigi Scalfro grazie mille Oscar Luigi Scalfro grazie di cuore per il prime ragazzi questa live non ha senso non l'avrei mai dovuta fare è stato un errore gravissimo vi chiedo scusa in Italia c'è oggi qualcuno che dice che la guerra di liberazione fu un tragico periodo di divisione e che abbiamo ora bisogno di una riconciliazione nazionale il ricordo di quegli anni terribili dovrebbe venire represso ma la repressione provoca nevrosi se riconciliazione significa compassione e rispetto per tutti coloro che hanno combattuto la loro guerra in buona fede perdonare non significa dimenticare posso anche ammettere che Eichmann credesse sinceramente nella sua missione la banalità del male ma non mi sento di dire ok torna e fallo ancora noi siamo qui per ricordare ciò che accadde e per dichiarare solennemente che loro non debbono farlo più ma chi sono loro e qui c'è tutta la questione definitoria grazie mille Cedda grazie per l'abbonamento regalato a Melian grazie ragazzi del supporto e qui c'è tutta la questione definitoria per cui tu riconosci uno che non è capace di leggere un testo dal fatto che ah ma il fascismo questo è un grande filtro perché prima persona non capisce un cazzo è quell'obiezione al fascismo vi chiedo scusa ma dovevo dirlo perché ce l'ho qui da un bel po' di tempo se pensiamo ancora ai governi totalitari che dominarono l'Europa prima della seconda guerra mondiale possiamo dire con tranquillità che sarebbe difficile vederli ritornare nella stessa forma in circostanze storiche diverse e io è qui che inizio a sentire un certo ottimismo magari non per l'Europa se il fascismo di Mussolini si fondava sull'idea di un capo carismatico sul corporativismo sull'utopia del destino fatale di Roma su una volontà imperialistica di conquistare nuove terre sul nazionalismo esacerbato sull'ideale di una intera nazione reggimentata in camicia nera sul rifiuto della democrazia parlamentare sull'antisemitismo allora non ho difficoltà ad ammettere che alleanza nazionale nata dall'MSI oggi sarebbe fratelli d'Italia è certamente un partito di destra ma ha poco a che fare col vecchio fascismo caro Umberto erano giorni felici per le stesse ragioni anche se sono preoccupato dai vari movimenti filonazisti attivi qua e là in Europa Russia compresa e grazie mille Vapore grazie per l'abbonamento regalato a Berluscoli Silvio Official se fosse vero se fosse veramente Berlusconi Silvio Official sarebbe una cosa stupenda sarebbe una cosa stupenda Dio se ci esistesse il canale Twitch di Berlusconi Dio se esistesse che cosa bella ah lo seguirei ah lo seguirei però solo quando c'è Silvio ma me l'ho immaginato nel live di Berlusconi ma ve l'immaginate ma io la seguirei proprio chissà che cazzo direbbe comunque qual è in Europa Russia compresa non penso che il nazismo nella sua forma originale stia per ricomparire come un movimento che coinvolga una nazione intera tuttavia anche se i regimi politici possono venire rovesciati e le ideologie criticate e delegittimate dietro a un regime e la sua ideologia c'è sempre un modo di pensare e di sentire una serie di abitudini culturali una nebulosa di istinti oscuri e di insondabili pulsioni c'è dunque ancora un altro fantasma che si aggira per l'Europa per non parlare di altre parti del mondo Ionesco disse una volta che solo le parole contano e il resto sono chiacchiere voi dovete leggere di Ionesco oltre alla cantatrice Calva che è il suo capolavoro credo di averli messi entrambi nella sezione teatro di Uesashop mi sembra penso di averli messi credo di averli messi oltre alla cantatrice Calva spero di aver messo anche il Re Muore voi dovete leggere Il Re Muore Ionesco ragazzi è un viaggione anche se io sono molto più Beckett però Ionesco è un viaggione dovete leggere comunque solo le parole contano e il resto sono chiacchiere le abitudini linguistiche sono spesso sintomi importanti di sentimenti inespressi lasciatemi dunque chiedere perché non solo la resistenza ma tutta la seconda guerra mondiale sono state definite in tutto il mondo come una lotta contro il fascismo se rileggete per chi suona la campana di Hemingway chi l'ha letto qualcuno di voi ha letto per chi suona la campana non so se qualcuno di voi ha letto per chi suona la campana ragazzi ma è uno dei libri della mia adolescenza è uno dei libri dei miei vent'anni l'ho veramente amato tantissimo l'ho veramente amato tantissimo tra l'altro ho anche è assieme a Dio alle armi tra l'altro è anche legato a Amori del mio passato insomma libro libro attenzione Hemingway non la poesia di John Don libro veramente per me indimenticabile comunque se rileggete perché suona la campana di Hemingway scoprirete che Robert Jordan il protagonista identifica i suoi nemici con i fascisti anche quando pensa ai falangisti spagnoli grazie a Kisuko grazie per la buona mentre è regalato a Xi Jinping Gaming 1953 mio dio mio dio mio dio ok ok devo abbonarmi a una serie di canali ho notato Xi Jinping Gaming cazzo è bellissimo cazzo è bellissimo non ho messo perché suona la campana ho messo solo a Dio alle armi beh nei romanzi ci stava anche perché suona la campana è grosso error permettetemi di lasciare la parola a Franklin Delano Roosevelt la vittoria del popolo americano e dei suoi alleati sarà una vittoria contro il fascismo e il vicolo cieco del dispotismo che esso rappresenta 23 settembre 1944 durante gli anni di McCarthy gli americani che avevano preso parte della guerra civile spagnola venivano chiamati antifascisti prematuri intendendo con ciò che combattere Hitler negli anni 40 era un dovere morale per ogni buon americano ma combattere contro Franco troppo presto negli anni 30 era sospetto perché un'espressione come fascist pig veniva usata dai radicali americani qui lui sta facendo una serie che cosa sta facendo lui ti sta facendo vedere come il termine fascista sia stato usato a destra e a manca molto al di là del fascismo italiano ok perché un'espressione come fascist pig veniva usata dai radicali americani persino per indicare un poliziotto che non approvava quello che fumavano perché non dicevano porco cagular porco falangista porco ustascia porco quisling porco antepavelic porco nazista sono sicuro che voi come me naturalmente conoscete tutti questi riferimenti Mein Kampf è il manifesto completo di un programma politico il nazismo aveva una teoria del razzismo e dell'arianesimo una nozione precisa del l'entartete kunst l'arte degenerata una filosofia della volontà di potenza e dell'übermensch il nazismo era decisamente anticristiano e neopagano allo stesso modo in cui il diamat la versione ufficiale del marxismo sovietico di stalin era chiaramente materialista e ateo se per totalitarismo si intende un regime che subordina ogni atto individuale allo stato e alla sua ideologia allora nazismo e stalinismo erano regimi totalitari il fascismo fu certamente una rittatura ma non era compiutamente totalitario non tanto per la sua mitezza quanto per la debolezza filosofica della sua ideologia grazie hey google per l'abbonamento regalato a Kim Jong un 1855 ma quindi avete il potere di creare canali come fate a far ste buzz è allucinante è incredibile sta cosa cioè io non credo che esistesse già questo canale hey google l'hai creato tu ma non ci posso esistono veramente no fantastico fantastico sto morendo e che cosa volevo dire al contrario di ciò che si pensa comunemente il fascismo italiano non aveva una sua filosofia l'articolo sul fascismo firmato da Mussolini per l'enciclopedia Treccani fu scritto o venne fondamentalmente ispirato da Giovanni Gentile ma rifletteva una nozione tardo-egheliana dello stato etico e assoluto che Mussolini non realizzò mai completamente Mussolini non aveva nessuna filosofia aveva solo una retorica anche qui è interessante l'uso che l'uso che Eco fa di retorica in questo testo è secondo me molto interessante e molto pro pubblico della situazione in mai ambolopini e si capisce perfettamente che cosa intende sia chiaro cominciò come ateo militante per poi firmare il concordato con la chiesa e simpatizzare con i vescovi che benedicevano i gagliardetti fascisti nei suoi primi anni anticlericali secondo una plausibile leggenda chiese una volta a Dio di fulminarlo sul posto per provare la sua esistenza Dio era evidentemente distratto in anni successivi nei suoi discorsi Mussolini citava sempre il nome di Dio e non disdegnava di farsi chiamare l'uomo della provvidenza proprio come il nostro Silvio che proprio così non ha disdegnato di farsi chiamare si può dire che il fascismo italiano sia stata la prima dittatura di destra che abbia dominato un paese europeo e che tutti i movimenti analoghi abbiano trovato in seguito una sorta di archetipo comune nel regime di Mussolini il fascismo italiano fu il primo a creare una liturgia militare un folklore e persino un modo di vestire riuscendo ad avere all'estero più successo di Armani Benettono Versace fu solo negli anni 30 che i movimenti fascisti fecero la loro comparsa in Inghilterra con Mosley e in Lettonia Estonia Lituania Polonia Ungheria Romania Bulgaria Grecia Jugoslavia Spagna Portogallo Norvegia e persino in America del Sud per non parlare della Germania fu il fascismo italiano a convincere molti leader liberali europei che il nuovo regime stesse attuando interessanti riforme sociali in grado di fornire un'alternativa moderatamente rivoluzionaria alla minaccia comunista tuttavia la priorità storica non mi sembra una ragione sufficiente per spiegare perché la parola fascismo è grazie Gerro per l'abbonamento regalato a Josip Stalin e Angelo per quello regalato a Federico Maestri metterei Federico Maestri direi dopo Stalin Kim Jong Un e qual'era l'altro Santoro no no l'altro Luttazzi no no Mirko c'è l'altro sei rapesissimo Xi Jinping Xi Jinping Scalfaro Scalfaro è vero Scalfaro grazie mille tuttavia la priorità storica non mi sembra una ragione sufficiente per spiegare perché la parola fascismo non poteva mancare l'abbonamento regalato a Umberto Eco da Feel Free to insult me speriamo di streammare anche nell'aldilà vado vado avanti la priorità storica non mi sembra una ragione sufficiente per spiegare perché la parola fascismo divenne una sineddoche una denominazione pars prototo per movimenti totalitari diversi non serve dire che il fascismo conteneva in sé tutti gli elementi dei totalitarismi successivi per così dire in stato quintessenziale al contrario il fascismo non possedeva alcuna quintessenza e neppure una singola essenza il fascismo era un totalitarismo fasi nel senso lo spiega nella nota ma non voglio fare spoiler quindi è un termine in logica per dire sfocato impreciso eccetera il fascismo non era una ideologia monolitica ma piuttosto un collage di diverse idee politiche e filosofiche un alveare di contraddizioni non buleano bravissimo Andrea si può forse concepire un movimento totalitario che riesca a mettere insieme monarchia e rivoluzione esercito regio e milizia personale di Mussolini i privilegi concessi alla chiesa e un'educazione statale che esaltava la violenza il controllo assoluto e il libero mercato il partito fascista era nato proclamando il suo nuovo ordine rivoluzionario ma era finanziato dai proprietari terrieri più conservatori che si aspettavano una controrivoluzione il fascismo degli inizi era repubblicano e sopravvisse per vent'anni proclamando la sua lealtà alla famiglia reale permettendo a un duce di tirare avanti sotto braccio a un re cui offerse anche il titolo di imperatore ma quando nel 1943 il re licenziò Mussolini il partito riapparve due mesi dopo con l'aiuto dei tedeschi sotto la bandiera di una repubblica sociale riciclando la sua vecchia partitura rivoluzionaria arricchita di accentuazioni quasi giacobine ci fu una sola architettura nazista e una sola arte nazista se l'architetto nazista era Sperr non c'era posto per Mies van der Rohe capite benissimo allo stesso modo sotto Stalin se Lamarck aveva ragione non c'era posto per Darwin al contrario vi furono certamente degli architetti fascisti ma accanto ai loro pseudo-colossei sorsero anche dei nuovi edifici ispirati al moderno razionalismo di Gropius non ci fu uno Sdanov fascista ma non lo so Volpe non lo so mi sembra un po' ottimista è la tua visione un po' romantica sull'Italia comunque non ci fu uno Sdanov fascista Sdanov era quello che il reggente dell'arte ufficiale in Unione Sovietica diciamo una cosa del genere non ci fu uno Sdanov fascista in Italia ci furono due importanti premi artistici il premio Cremona era controllato da un fascista incolto e fanatico come Farinacci che incoraggiava un'arte propagandistica mi ricordo di quadri intitolati Ascoltando alla radio un discorso del duce o stati mentali creati dal fascismo e il premio Bergamo sponsorizzato da un fascista colto e ragionevolmente tollerante come Bottai che proteggeva l'arte per l'arte e le nuove esperienze dell'arte d'avanguardia che in Germania erano state bandite come corrotte e criptocomuniste contrarie al Kicni Belungico il solo ammesso il poeta nazionale era d'annunzio un dandy che in Germania o in Russia sarebbe stato mandato davanti al plotone d'esecuzione venne assunto al rango di vate del regime per il suo nazionalismo e il suo culto dell'eroismo con l'aggiunta di forti dosi di decadentismo francese prendiamo il futurismo avrebbe dovuto essere considerato un esempio di entartete kunst l'arte fottuta l'arte che non ci deve stare così come l'espressionismo il cubismo il surrealismo ma i primi futuristi italiani erano nazionalisti favorirono per ragioni estetiche la partecipazione italiana alla prima guerra mondiale celebrarono la velocità la violenza il rischio e in certo modo questi aspetti sembrarono vicini al culto fascista della gioventù quando il fascismo si identificò con l'impero romano e riscoprì le tradizioni rurali Marinetti che proclamava un'automobile più bella della vittoria di Samotraccia e voleva persino uccidere il chiaro di luna venne nominato membro dell'Accademia d'Italia che trattava il chiaro di luna con grande rispetto molti dei futuri partigiani e dei futuri intellettuali del partito comunista vennero educati dal GUF l'associazione fascista degli studenti universitari che doveva essere la culla della nuova cultura fascista questi club diventero una sorta di calderone intellettuale in cui le nuove idee circolavano senza alcun reale controllo ideologico non tanto perché gli uomini di partito fossero tolleranti quanto perché pochi di loro possedevano gli strumenti intellettuali per controllarle nel corso di quel ventennio la poesia degli ermetici rappresentò una reazione scusatemi allo stile pomposo del regime a questi poeti venne permesso di elaborare la loro protesta letteraria dall'interno della torre d'avorio il sentire degli ermetici era esattamente il contrario del culto fascista dell'ottimismo e dell'eroismo il regime tollerava questo dissenso palese anche se socialmente impercettibile perché non prestava sufficiente attenzione a un gergo così oscuro il che non significa che il fascismo italiano fosse tollerante gramsci venne messo in prigione fino alla morte matteotti e i fratelli rosselli vennero assassinati la libertà di stampa la libera stampa scusatemi soppressa i sindacati smantellati i dissendenti politici confinati su isole remote il potere legislativo divenne una mera finzione quello esecutivo che controllava il giudiziario come pure i mass media emanava direttamente le nuove leggi tra le quali vi furono anche quelle per la difesa della razza l'appoggio formale italiano l'immagine incoerente che ho descritto non era dovuta a tolleranza era un esempio di sgangratezza politica e ideologica ma era una sgangratezza ordinata una confusione strutturata il fascismo era filosoficamente scardinato ma dal punto di vista emotivo era fermamente incernierato ad alcuni archetipi grazie Gerro grazie mille grazie mille del supporto grazie ragazzi vediamo siamo ora giunti al secondo punto della mia tesi ci fu un solo nazismo e non possiamo chiamare nazismo il falangismo ipercattolico di Franco dal momento che il nazismo è fondamentalmente pagano politeistico e anticristiano o non è nazismo seducente al contrario si può giocare al fascismo in molti modi e il nome del gioco non cambia succede alla nozione di fascismo quel che secondo Wittgenstein accade alla nozione di gioco un gioco può essere o non essere competitivo può interessare una o più persone può richiedere qualche particolare abilità o nessuna può mettere in palio del denaro o no i giochi sono una serie di attività diverse che mostrano solo una qualche somiglianza di famiglia le ricerche filosofiche quindi lo vedete va davanti supponiamo che esista una serie di gruppi politici il gruppo 1 è caratterizzato dagli aspetti ABC il 2 da BCD e così via 2 è simile a 1 in quanto hanno due aspetti in comune 3 è simile a 2 e 4 è simile a 3 per la stessa ragione si noti che 3 è anche simile a 1 hanno in comune l'aspetto C il caso più curioso è dato da 4 ovviamente simile a 3 e a 2 ma senza nessuna caratteristica in comune con 1 tuttavia a ragione della ininterrotta serie di decrescenti similarità tra 1 e 4 rimane per una sorta di transitività illusoria un'area di famiglia tra 4 e 1 il termine fascismo si adatta a tutto perché è possibile eliminare da un regime fascista uno o più aspetti e lo si potrà sempre riconoscere per fascista togliete al fascismo l'imperialismo e avrete Franco o Salazar togliete il colonialismo e avrete il fascismo balcanico aggiungete al fascismo italiano un anticapitalismo radicale che non affascinò mai Mussolini e avrete Ezra Pound aggiungete il culto della mitologia celtica e il misticismo del Graal completamente strano al fascismo ufficiale e avrete uno dei più rispettati guru fascisti Giulio Sevola a dispetto di questa confusione ritengo sia possibile indicare una lista di caratteristiche tipiche di quello che vorrei chiamare l'ur-fascismo o il fascismo eterno tali caratteristiche non possono venire irregimentate in un sistema molte si contraddicono reciprocamente e sono tipiche di altre forme di dispotismo o di fanatismo ma è sufficiente che una di loro sia presente per far coagulare una nebulosa fascista e qui iniziano i 14 modi per riconoscere uno stronzo che potrebbe essere appunto il sottotitolo del fascismo eterno e mi ricordo che proprio Federico Maestri fece una copertina l'avevo messa anche su Instagram in una storia fece la copertina del fascismo eterno ma con il titolo 14 modi per riconoscere uno stronzo e questi sono i 14 modi la prima caratteristica di un di un urfascismo è il culto della tradizione grazie Federico Fazzullo grazie mille del Prime grazie del supporto ragazzi il culto della tradizione il tradizionalismo è più vecchio del fascismo non fu solo tipico del pensiero contro rivoluzionario cattolico dopo la rivoluzione francese ma nacque nella tarda età ellenistica come una reazione al razionalismo greco classico nel bacino del Mediterraneo i popoli di regioni diverse tutte accettate con indulgenza dal pantheon romano cominciarono a sognare una rivelazione ricevuta all'alba della storia umana questa rivelazione era rimasta a lungo nascosta sotto il velo di lingue ormai dimenticate era affidata ai geroglifici egiziani alle rune dei celti ai testi sacri ancora sconosciuti delle religioni asiatiche questa nuova cultura doveva essere sincretistica sincretismo non è solo come indicano i dizionari la combinazione di forme diverse di credenze o pratiche una simile combinazione deve tollerare le contraddizioni tutti i messaggi originali contengono un germe di saggezza e quando sembrano dire cose diverse o incompatibili è solo perché tutti alludono allegoricamente a qualche verità primitiva come conseguenza non ci può essere avanzamento del sapere la verità è stata già annunciata una volta per tutte e noi possiamo solo continuare a interpretare il suo oscuro messaggio è sufficiente guardare il sillabo di ogni movimento fascista per trovare i principali pensatori tradizionalisti l'agnosi nazista si nutriva di elementi tradizionalisti sincretistici occulti la più importante fonte teorica della nuova destra italiana giulius evola mescolava il graal con i protocolli dei savi di sion l'alchimia con il sacro romano impero il fatto stesso che per mostrare la sua apertura mentale una parte della destra italiana abbia recentemente ampliato il suo sillabo mettendo insieme De Maestr Guenon e Gramsci è una prova lampante di sincretismo se curiosate tra gli scaffali che nelle librerie americane portano l'indicazione new age troverete persino Sant'Agostino il quale per quanto ne sappia non era fascista ma il fatto stesso di mettere insieme Sant'Agostino e Stonehenge questo è un sintomo di urfascismo tradizionalismo implica il rifiuto del modernismo sia i fascisti che i nazisti adoravano la tecnologia mentre i pensatori tradizionalisti di solito rifiutano la tecnologia come negazione dei valori spirituali tradizionali tuttavia sebbene il nazismo fosse fiero dei suoi successi industriali la sua lode della modernità era solo l'aspetto superficiale di una ideologia basata sul sangue e la terra Blut und Boden il rifiuto del mondo moderno era camuffato come condanna del modo di vita capitalistico ma riguardava principalmente il rigetto dello spirito del 1789 o del 1776 ovviamente quindi rivoluzione francese o americana l'illuminismo l'età della ragione vengono visti come l'inizio della depravazione moderna in questo senso l'urfascismo può venire definito come irrazionalismo l'irrazionalismo dipende anche dal culto dell'azione per l'azione l'azione è bella di per sé e dunque deve essere attuata prima di e senza una qualunque riflessione pensare è una forma di evirazione perciò la cultura è sospetta nella misura in cui viene identificata con atteggiamenti critici dalla dichiarazione attribuita a Goebbels quando sento parlare di cultura e strago la mia pistola all'uso frequente di espressioni quali porci intellettuali teste d'uovo snob radicali le università sono un covo di comunisti e per quante ne abbiamo sentite ben dopo grazie tribun grazie del prime ben dopo questo testo come era i radical chic e quant'altro il sospetto verso il mondo intellettuale i professoroni è sempre stato un sintomo di urfascismo gli intellettuali fascisti ufficiali erano principalmente impegnati nell'accusare la cultura moderna e l'intelligenza liberale di aver abbandonato i valori tradizionali nessuna forma di sincretismo può accettare la critica lo spirito critico opera distinzioni e distinguere è un segno della modernità nella cultura moderna la comunità scientifica intende il disaccordo come strumento di avanzamento delle conoscenze per l'urfascismo il disaccordo è tradimento il disaccordo è inoltre un segno di diversità l'urfascismo cresce e cerca il consenso sfruttando e desacerbando la naturale paura della differenza il primo appello di un movimento fascista o prematuramente fascista è contro gli intrusi l'urfascismo è dunque razzista per definizione l'urfascismo scaturisce dalla frustrazione individuale o sociale il che spiega perché una delle caratteristiche tipiche dei fascismi storici è stato l'appello alle classi medie frustrate a disagio per qualche crisi economica o umiliazione politica spaventate dalla pressione dei gruppi sociali subalterni nel nostro tempo in cui i vecchi proletari stanno diventando piccola borghesia come sono cambiati i tempi e i lumpen si autoescludono dalla scena politica il fascismo troverai in questa nuova maggioranza il suo uditorio schippo questo lumpen scusatemi l'ignoranza certo che c'è Mishima è più fascio di Mishima fai fatica a trovarne uno grazie Davide grazie mille del Prime grazie ragazzi a coloro che sono privi di una qualunque identità sociale l'urfascismo dice che il loro unico privilegio è il più comune di tutti quello di essere nati nello stesso paese è questa è questa l'origine del nazionalismo inoltre gli unici che possono fornire una identità alla nazione sono i nemici così alla radice della psicologia ur-fascista vi è l'ossessione del complotto possibilmente internazionale i seguaci debbono sentirsi assediati il modo più facile per far emergere un complotto è quello di fare appello alla xenofobia ma il complotto deve venire anche dall'interno gli ebrei sono di solito l'obiettivo migliore in quanto presentano il vantaggio di essere al tempo stesso dentro e fuori in America l'ultimo esempio dell'ossessione del complotto rappresentato dal libro The New World Order di Pat Robertson nuovo ordine mondiale i seguaci debbono sentirsi umiliati dalla ricchezza ostentata e dalla forza dei nemici quando ero bambino mi insegnavano che gli inglesi erano il popolo dei cinque pasti mangiavano più spesso degli italiani poveri ma sobri gli ebrei sono ricchi e si aiutano l'un l'altro grazie a una rete segreta di mutua assistenza i seguaci debbono tuttavia essere convinti di poter sconfiggere i nemici così grazie a un continuo spostamento di registro retorico i nemici sono al tempo stesso troppo forti e troppo deboli i fascismi sono condannati a perdere le loro guerre perché sono costituzionalmente incapaci di valutare con obiettività la forza del nemico deve sempre dire una cazzatina ecco lo sapete per l'ur fascismo non c'è lotta per la vita ma piuttosto vita per la lotta il pacifismo è allora collusione col nemico il pacifismo è cattivo perché la vita è una guerra permanente questo tuttavia porta con sé un complesso di armageddon dal momento che i nemici debbono e possono essere sconfitti ci dovrà essere una battaglia finale a seguito della quale il movimento avrà il controllo del mondo una simile soluzione finale implica una successiva era di pace un'età dell'oro che contraddice il principio della guerra permanente nessun leader fascista mai riuscito a risolvere questa contraddizione l'elitismo è un aspetto tipico di ogni ideologia reazionaria in quanto fondamentalmente aristocratico nel corso della storia tutti gli elitismi aristocratici e militaristici hanno implicato il disprezzo per i deboli l'ur fascismo non può fare a meno di predicare un elitismo popolare ogni cittadino appartiene al popolo migliore del mondo i membri del partito sono i cittadini migliori ogni cittadino può o dovrebbe diventare un membro del partito oh ragazzi io spero che voi stiate pensando all'attualità ditemi che state ma lo do per scontato ma pensate all'attualità pensate al mondo di oggi non stiamo parlando di lo do per buono lo do per buono guardatevi intorno se non è partito è un gruppo di un qualche tipo ma non possono esserci patrizi senza plebei il leader che sa bene come il suo potere non sia stato ottenuto per delega ma conquistato con la forza sa anche che la sua forza si basa sulla debolezza delle masse così deboli da aver bisogno e da meritare un dominatore dal momento che il gruppo è organizzato gerarchicamente secondo un modello militare ogni leader subordinato disprezza i suoi subalterni e ognuno di loro disprezza i suoi sottoposti tutto ciò rinforza il senso di un elitismo di massa sembra anche un pochino lo schema com'è che si chiama quelle robe tipo Herbalife lo schema del marketing piramidale in questa prospettiva ciascuno è educato per diventare un eroe multilevel market esatto o ponzi anche perché no esattamente esattamente ciascuno è educato per diventare un eroe in ogni mitologia l'eroe è un essere eccezionale ma nell'ideologia urfascista l'eroismo è la norma questo culto dell'eroismo è strettamente legato al culto della morte non a caso il motto dei falangisti era viva la muerte alla gente normale si dice che la morte è spiacevole ma bisogna affrontarla con dignità ai credenti si dice che è un modo doloroso per raggiungere una felicità soprannaturale l'eroe urfascista invece aspira alla morte annunciata come la migliore ricompensa per una vita eroica l'eroe urfascista è impaziente di morire nella sua impazienza va detto in nota gli riesce più di frequente di far morire gli altri dal momento che sia la guerra permanente sia l'eroismo sono giochi difficili da giocare l'urfascista trasferisce la sua volontà di potenza su questioni sessuali è questa l'origine del macismo che implica disdegno per le donne e una condanna intollerante per abitudini sessuali non conformiste dalla castità all'omosessualità dal momento che anche il sesso è un gioco difficile da giocare l'eroe urfascista gioca con le armi che sono il suo ersatz fallico i suoi giochi di guerra sono dovuti a una invidia penis permanente l'urfascismo si basa su un populismo o qua siamo nel 95 si basa su un populismo qualitativo in una democrazia i cittadini godono di diritti individuali ma l'insieme dei cittadini è dotato di un impatto politico solo dal punto di vista quantitativo si seguono le decisioni della maggioranza per l'urfascismo gli individui in quanto individui non hanno diritti e il popolo è concepito come una qualità un'entità monolitica che esprime la volontà comune dal momento che nessuna quantità di esseri umani può possedere una volontà comune il leader pretende di essere il loro interprete dal momento che nessuna quantità di esseri umani nessuna quantità un miliardo o due può possedere una volontà comune il leader pretende di essere il loro interprete questo passaggio avendo perduto il loro potere di delega i cittadini non agiscono sono solo chiamati pars prototo a giocare il ruolo del popolo il popolo è così solo una finzione teatrale per avere un buon esempio di populismo qualitativo non abbiamo più bisogno di piazza venezia o dello stadio di norimberga nel nostro futuro si profila un populismo qualitativo tv o internet già dire internet nel 95 ci stava carino in cui la risposta emotiva di un gruppo selezionato di cittadini può venire presentata e accettata come la voce del popolo naturalmente a ragione del suo populismo qualitativo l'urfascismo deve opporsi ai putridi governi parlamentari una delle prime frasi pronunciate da Mussolini nel parlamento italiano fu avrei potuto trasformare quest'aula sorda e grigia in un bivacco per i miei manipoli di fatto trovò immediatamente un alloggio migliore per i suoi manipoli ma poco dopo liquidò il parlamento ogni qualvolta un politico getta dubbi sulla legittimità del parlamento perché non rappresenta più la voce del popolo possiamo ben dire di sentire l'odore dell'urfascismo l'urfascismo parla la neolingua la neolingua e abbiamo citato 1984 attenzione la neolingua venne inventata da Orwell in 1984 come la lingua ufficiale dell'ingsoc il socialismo inglese ma elementi di urfascismo sono comuni a forme diverse di dittatura tutti i testi scolastici nazisti o fascisti si basavano su un lessico povero e su una sintassi elementare al fine di limitare gli strumenti per il ragionamento complesso e critico ma dobbiamo essere pronti ad identificare altre forme di neolingua anche quando prendono la forma innocente di un popolare talk show e qui ci siamo ecco può citare 1984 e non bisogna cagargli il cazzo per fanboismo puro per dogma dopo aver indicato i possibili e qui è finita è brevi in realtà abbiamo finito ragazzi dopo aver indicato spero l'aveste già letto cioè se manco vi pigliate un libro che è grosso così ragazzi allora e ora diventa difficile dopo aver indicato i possibili archetipi dell'urfascismo mi si è concesso di concludere il mattino del 27 luglio del 1943 mi fu detto che secondo delle informazioni lette alla radio il fascismo era crollato e Mussolini era stato arrestato mia madre mi mandò a comprare il giornale andai al chiosco più vicino e vi dico i giornali i giornali c'erano ma i nomi erano diversi inoltre dopo una breve occhiata ai titoli mi resi conto che ogni giornale diceva cose diverse ne comprai uno a caso e lessi un messaggio stampato in prima pagina firmato da 5 o 6 partiti politici come democrazia cristiana partito comunista partito socialista partito d'azione partito liberale fino a quel momento avevo creduto che vi fosse un solo partito in ogni paese e che in Italia ci fosse solo il partito nazionale fascista stavo scoprendo che nel mio paese ci potevano essere diversi partiti allo stesso tempo non solo dal momento che ero un ragazzo sveglio mi resi subito conto che era impossibile che tanti partiti fossero sorti da un giorno all'altro capii così che esistevano già come organizzazioni clandestine il messaggio celebrava la fine della dittatura e il ritorno della libertà libertà di parola di stampa di associazione politica queste parole libertà dittatura dio mio era la prima volta in vita mia che le leggevo in virtù di queste nuove parole siamo la gente che non si arrende che tende la mano che forza si dà presidente siamo contenti ma meno male che Silvio c'è l'Italia che ha scento di creda ancora in questo sogno Edgardo che cretino che sono scusate ero rinato uomo libero occidentale ero rinato uomo libero occidentale dobbiamo stare attenti che il senso di queste parole non si dimentichi ancora l'urfascismo è ancora intorno a noi talvolta in abiti civili sarebbe così confortevole per noi se qualcuno si affacciasse sulla scena del mondo e dicesse voglio riaprire Auschwitz voglio che le camicie nere sfilino ancora in parata sulle piazze italiane ahimè la vita non è così facile l'urfascismo può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l'indice eh beh eh sì però le garette sono più divertenti cioè io vi dico sinceramente non so se il dovere sia questo fare le garette però temo che sia questo ahimè il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l'indice su ognuna delle sue nuove forme ogni giorno in ogni parte del mondo porca puttana do ancora la parola Roosevelt oso dire che se la democrazia americana cessasse di progredire stiamo ben leggendo robe cessasse di progredire come una forza viva cercando giorno e notte con mezzi pacifici di migliorare le condizioni dei nostri cittadini la forza del fascismo crescerà nel nostro paese nel 38 libertà e liberazione sono un compito che non finisce mai che sia questo il nostro motto non dimenticate e permettetemi di finire con questa con una poesia di Franco Fortini che credo sia contenuta in foglio di via non so neanche se ce l'ho qui credo che il libro sia a foglio di via non ne sono sicuro mi pare mi sembra e permettetemi di finire con una poesia di Franco Fortini allora dice questa poesia sulla spalletta del ponte le teste degli impiccati nell'acqua della fonte la bava degli impiccati sull'astrico del mercato le unghie dei fucilati sull'erba secca del prato i denti dei fucilati mordere l'aria mordere i sassi la nostra carne non è più duomini dillo così con quella forza che ha solamente chi è puro di mente presidente ma meno male che Silvio c'è viva l'Italia che ha scelto di credere ancora e ancora e ancora e ancora siamo la gente che non si arrende la gente della libertà mordere l'aria mordere i sassi la nostra carne non è più duomini mordere l'aria mordere i sassi il nostro cuore non è più duomini ma noi se è letto negli occhi dei morti se è letta negli occhi dei morti e sulla terra faremo libertà ma la nostra è i pugni dei morti la giustizia che si farà good luck e così Kisht era una conferenza del nostro che dire che dire che dire che dire non è facile non è facile vivere non è facile neanche sobbarcarsi cose in fondo speravamo di potercene veramente sbattere speravamo io vi dico sinceramente io speravo veramente di poter pensare ma forse tutti noi ognuno ognuno aveva la sua idea di migliorare il tempo sul giro a spa ecco io avevo migliorare il tempo sul giro a spa in un simulatore di formula 1 che cazzo e invece purtroppo purtroppo è vero purtroppo è molto vero che non è mai finita in altri modi in altri termini non è mai finita amarezza dumaron ma è così è così grazie Andre grazie mille per gli abbonamenti regalati a Boalla a Lord Dave The Kind Janos Moot Witness a Jeff Bezos grazie 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 molto gentile detto questo eh ma perché è catartica è un riferimento alla mistica lui fa riferimento ai falangisti spagnoli ma in generale la mistica fascista che è una mistica di esaltazione della morte e fa parte dell'eroismo e che ovviamente è un eroismo vittimista il mio concetto di vittimismo eroico lo traggo da questo scritto grazie ai fonti grazie del prime è difficile pensare a un testo come questo da un certo punto di vista è naif perché il mondo è cambiato in peggio secondo me molto da un punto di vista politico dal 95 a oggi e si potrebbe aggiungere tanto se Eco fosse vivo e un po' più giovane avrebbe potuto compendiarlo per il resto è amaro pensare che il sogno di tutti è la pace il sogno di tutti è la pace intesa come la completa libertà di essere interamente apolitici questo è il sogno un mondo di vera pace in cui tutti nasciamo viviamo e moriamo esentati da simili preoccupazioni non ci è adatto PD per il resto lo stile di Eco a me questo autore risulta sempre commovente perché è un filosofo morale è un bastardo è un vero bastardo perché riesce sempre a metterti la polpetta avvelenata della posta in gioco della grande importanza di quello che dice praticamente in ogni suo cazzo di testo non voglio dire in ogni sua riga ma ci andiamo molto vicino è un autore che per chi ha non voglio essere per chi ha intenzione di capirlo non ti lascia mai in pace non ti lascia mai in pace è molto bravo scrive è dura perché io capisco le motivazioni anche ricordiamoci questa è una conferenza come spiega lui all'inizio in America le motivazioni di parlare di fascismo eccetera ma il problema è quella rigidità mentale tutte le scuse che si inventa per non vedere la realtà potremmo chiamare dogmatismo e da un lato non finisce mai la battaglia contro dall'altro c'è il sospetto che ci sia connaturato capisci il sogno del transumanesimo forse dobbiamo soltanto trovare e dare la vita alla forma di vita che finalmente ci ci chiuderà nell'armadietto della storia ma chi lo sa comunque comunque leggetelo quest'autore leggetelo quest'autore ragazzi leggetelo quest'autore perché c'è tanta ciccia c'era tanta ciccia sul suo corpo e c'è tanta ciccia nelle sue opere abbiamo surfato abbiamo surfato la realtà che dire è molto strano per me che ho seguito quest'autore per un bel po' di anni ero molto abituato quando Eco era vivo al fatto che in Italia vivevamo in una vita pubblica in cui Eco era vivo una vita pubblica in cui Eco era vivo era una vita pubblica in cui meno persone si permettevano di sbertucciarlo come se fosse un cretino perché c'era caso che rispondesse ma era interessante perché era una di quelle figure intellettuali che magari ogni tanto dicevano la loro ed era bello sentire che cosa ne pensava di questo o di quello era ovviamente un principio di autorità non sarebbe stato contento né lui però era carino che cazzo mi fido cosa ne pensa Eco era sbagliato era importante da questo punto di vista che Eco morisse Eco doveva lasciarci da soli Eco e tantissimi altri che potremmo mettere sullo stesso piano ovviamente è molto molto importante che i riferimenti intellettuali che una persona ha a un certo punto tacciano perché bisogna andare avanti senza la morte in questo senso aiuta naturalmente rimangono gli iscritti ma a un certo punto non si aggiornerà più non dirà più la sua quant'altra roba potremmo leggere di Eco mamma mia comunque bene così bene così bene così siamo la gente della libertà la cosa che mi ha sempre colpito di questa mostruosità che è stato il berlusconismo che Eco ha pur raccontato è sempre stato l'uso svergognato della retorica liberale fatta da Berlusconi è una cosa che mi ha sempre affascinato che immensa indescrivibile presa per il culo che è stato è il berlusconi che è presa per il culo ridendo mentre ci prendeva per il culo mi ricorderò sempre quelle intercettazioni con Sacca allora presidente non mi ricordo il cazzo gli dice ma guarda io vado in giro la gente mi vuole stringere la mano diceva lui mi vuole baciare che imbarazzo che imbarazzo te credo Silvio te credo che eri imbarazzato da vedere quanto veramente funzionassi te credo che eri imbarazzato Italia mi devo soffiare il naso ragazzuoli mi devo soffiare il naso e per farlo ho pudore e quindi sparisco datemi dieci secondi mi devo soffiare aspettate voglio anche che non mi sentiate quindi faccio così e così e così eccomi eccomi e quindi niente ragazzi boh sentite sono contento di aver letto di aver letto questa cosa insieme a voi esatto una live sul berlusconismo in realtà dance kiwi è vero ma in realtà abbiamo già fatto delle live sul berlusconismo volendo ma in realtà una vera live che sarebbe davvero davvero da fare abbiamo già in realtà ce l'abbiamo qui e c'è un po' scappata qui e lì una live sul berlusconismo ma per fare una live sul berlusconismo ci vorrebbe davvero la possibilità di far andare youtube perché è con la cosa che mi interessa del berlusconismo ovviamente è l'italia e solo gli italiani non è neanche l'ipsedixit in fondo non me ne frega neanche un cazzo di andare a beccare le cose inconcepibili che lui ha detto o gli eventi naturalmente altrettanto inconcepibili che sono successi non mi interessa di andare a vedere risultati elettorali a me interessa Saturniox bravissimo ma il decennio precedente ricordiamoci sempre che il berlusconismo nasce molto prima che berlusconi anche solo immaginasse di scendere in politica e per capire berlusconi e per capire il trauma che chiunque abbia vissuto quell'epoca sentirà e sente in quei casi bisogna vedere la Fininvest come si chiamava Mediaset negli anni 80 bisogna vedere le pubblicità e le trasmissioni televisive di Rete 4 Canale 5 e Italia 1 alle origini esattamente negli anni 80 e la cosa più dolorosa bio cane la cosa più dolorosa la cosa più dolorosa per me per te perché è un vecchiaccio di merda ma poi sono vecchiaccio di merda perché siamo su internet sono proprio morti ancora non siamo la cosa più dolorosa c'è un'infanzia sola c'è un imprinting solo e quello è stato e la cosa che fa male è che se vedi certe pubblicità di Canale 5 il Natale di Canale 5 mezzo scimmiottando le pubblicità più melense della Coca-Cola con un John Lennon mi ricordo di sottofondo war is over no e l'albero di Natale la bambina bionda la cosa più terribile è che io ho i brividi per la nostalgia questo questa è la violenza di l'olito l'abuso per questo quel libro di Luttazzi è eccezionale questo è quello che senza nemmeno poterlo leggere abbiamo siamo stati violati si potrebbe quasi dire molte delle cose oltre immaginate il cringe per dieci molte delle cose che erano quella retorica quella preparazione in realtà è accidentale ma che si è poi rivelata essere una preparazione del campo anzi della discesa in campo sono state la nostra culla possiamo non amarle più ma non potremo mai non averle amate i miei occhi sognavano davanti a Canale 5 Italia 1 sognavano vedo il cringe ce l'ho fatta a staccarmi criticamente ma c'è qualcosa sotto che è pre-critico ma non pre-semiotico e quello è proprio è quella sensazione che tu hai e ve lo dico sinceramente quando vedi oggi Berlusconi non più forse una persona lucidissima non più nel fiore degli anni e della salute e da un lato dici ma vedi ma al tempo stesso c'è qualche cosa è come se fosse lui stesso perché lui in fondo è ancora Berlusconi è come se fosse l'ultimo superstite dell'epoca della nostra innocenza proprio lui che chissà come se la rideva tu lo vedi è tutto così cambiato è tutto così cambiato non ci sono neanche parole per dirlo ma lui è ancora lì e quello è proprio Berlusconi certo insomma si fa quasi fatica a riconoscerlo ma quello è proprio Berlusconi e l'idea aberrante o per salvare Draghi o fate Vobis di Berlusconi presidente della Repubblica assume il connotato patetico paradossale sarcastico e drammatico di una celebrazione di un'ultima celebrazione nostalgica di quando ci siamo persi è vero che una parte di me spera che lui diventi presidente eh ragazzi sono cresciuto infuso nell'anti-Berlusconismo ma da bambino ok perché hai la sensazione quasi la sensazione che abbia avuto un senso e al tempo stesso il finale che ci meritiamo che non è un finale ma è come se lo fosse c'è qualche e sembra quasi uno scenario grottesco horror horror psicologico ma al tempo stesso c'è qualche cosa di di affascinante perché lui non è morto è ancora vivo non può che essere legati non possono che essere legati all'epoca che lui ha segnato più di chiunque altro e cui ha dato il suo segno più di chiunque altro alcuni dei nostri ricordi più dolci e più belli anche la casa la strada la vita figuratevi alla Bolognina tutti compagnissimi quindi figurate Berlusconi come era visto ciò nonostante eravamo tutti cullati nella sua epoca da quelle televisioni da quelle televisioni pubbliche che finirono per clonare le sue siamo stati quasi ospiti di questa parabola agghiacciante pace Nuelama grazie mille del Prime ti ringrazio molto e grazie anche Broccoli e Chakra che questo è l'account di Vendrame grazie Fonti grazie grazie mille ragazzi del supporto eh Vapor sì 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 ti capisco benissimo ti capisco benissimo si aggiunge un discorso che trasliamo un attimo il discorso quello che tu dici di un cinepanettone o che può anche essere legato mi è capitato ad esempio con certi film della commedia l'italiana il valore documentaristico che il cinema soprattutto nostrano ha per noi che è una cosa ci sono film magari ambientati in un'epoca giovanile o magari nell'epoca giovanile dei nostri genitori che ci interessa sbirciare che magari il film in sé può avere o non avere valore chi se ne frega però in realtà guardi quel film come guarderesti un documentario per vedere come erano le case per vedere capisci attraverso la narrazione del film comunque quali erano le convenzioni come si viaggiava come si parlava come si cos'era la quotidianità in particolare è molto ed è questo difficile spiegarlo però ai veramente giovanissimi perché non mi riferisco a nativi digitali ma nativi internettiani è un nativo internettiano post 2000 deve essere nato per essere un vero nativo internettiano come dico io è molto difficile spiegare anche questo è un discorso che ho già fatto ma ci tengo a ripeterlo perché così andrà su Cantina Uesa è molto molto difficile spiegare quanto è cambiata la quotidianità spiegare spiegare come vivevamo prima non si tratta di dire tecnicamente che cosa si faceva come si passava il tempo è proprio un modo diverso in cui il nostro cervello era abituato a interfacciarsi alla realtà un respiro diverso delle giornate del tempo come ho già detto e questo è un discorso che ci tengo a rifare mi scuso con chi l'ha già sentito mi scuso sinceramente ma ci tengo a rifarlo come ho già detto mi è capitato come è capitato a tutti di fare i giretti nei weekend e di andare a visitare i castelli vai a vedere un castello qui un castello là l'Italia piena di castelli e quindi alcuni castelli sono ancora ben allestiti e puoi vedere come vivevano le famiglie nobiliari in epoca medievale o tardo medievale e quindi hai la cassa panca hai il letto hai la cucina fatta in un certo modo il bagno più su per giù insomma l'avete presente l'avete presente anche voi e la cosa che mi fa più impressione è che il mondo nel quale io sono cresciuto assomiglia di più a una casa magari di cui si poteva permettere più cose in epoca tardo medievale diciamo così che a quello di oggi vedere un letto una cassa panca un divano una credenza un armadio una libreria e sapere che la casa è tutta qui una cucina così un mondo che può essere solo analogico assomiglia di più alla mia infanzia anche se possono essere passati secoli e ci sono importanti cose tecnologiche rispetto a quello che c'è oggi la frattura di modo di vita per via della rivoluzione tecnologica che abbiamo vissuto che ancora è nella biografia delle persone della mia età è senza precedenti nella storia dell'umanità è qualcosa che non non si riesce uno dice ma sai tante innovazioni è più simile un'epoca prefognature all'epoca della mia infanzia che l'epoca della mia infanzia all'epoca di internet non sto scherzando perché l'azione sulla nostra mente e su come il nostro cervello funziona H24 faccio fatica a spiegare a me stesso come riuscivo a trascorrere le giornate prima ma questo ne ho parlato anche con persone della generazione dei miei genitori è veramente assurdo veramente assurdo non so come ci siamo finiti dal fascismo c'è stato Berlusconi di mezzo c'è stato Berlusconi di mezzo non vuole essere non vuole essere si stava meglio ma per la mia generazione e vicine hai veramente una sensazione di mondo perduto che è superiore a sì ok eri più giovane non è solo questo cazzo era proprio un altro cazzo è veramente cambiato tutto tutto ogni cosa è una cosa che io credo che più o meno consapevolmente le persone della mia età un pochino meno un pochino di più si portano dentro una frattura un trauma un ci sta che il quartiere della tua infanzia sia cambiato ma non è quello non è più da nessuna parte quel mondo non è più da nessuna parte non è una cosa non c'è niente che gli assomigli meglio così peggio così lo scopriremo c'è un articolo interessante le cassa panche nel metà spero che abbiate capito che cosa intendo l'acqua in casa oppure no non era quello il punto è per dire l'enorme differenza che fa la rivoluzione digitale internetiana che è una cosa che persino in una casa medievale ti sembra più simile lo so benissimo che non lo è che è acqua corrente grazie era un'immagine che volevo trasferirvi video di 14 secondi soul bringer mi fido aspettami oddio 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 ma qui si vola aspettate voi ce l'avete l'audio ce l'avete il video no? vi metto il video scusate ve lo metto subito ma qui si vola ragazzi ma non mi potete droppare delle perle così sai è fatto anche da persone normali uno studio corrente dice che la media del pubblico italiano rappresenta l'evoluzione mentale di un ragazzo che fa la seconda media e che non sta nemmeno seduto nei primi banchi sai è fatto anche da persone normali uno studio corrente dice che la media del pubblico italiano rappresenta l'evoluzione mentale di un ragazzo che fa la seconda media e che non sta nemmeno seduto nei primi banchi sono d'accordo maniaco sono d'accordissimo ha curato ha curato sai che non l'ho visto pletticosa ma accidenti ma beh non ho visto una cosa del genere che infatti si chiamava la cosa cioè la si chiamava così sì 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 beh Vespa che annuisce penso che che Vespa gli sarà venuta un'artrose a furia di annuire in presenza di Berlusconi gli avrei detto guarda non vediamoci più perché mi viene male al collo scientifico quanto interstellare esattamente va bene ragazzi in realtà sono le sedici e ventinove tipo è mattina quindi possiamo fare ancora sentite a questo punto facciamo una grossa cesura all'interno di questa live ora cambiamo moltissimo argomento cambiamo cambiamo da mattina argomento cosa c'è su Prime Video questo cazzo questo sarebbe da vedere però mi pare di averlo visto ah no è italiano forse forse si potrebbe vedere no volevo leggere un articolo su Silicon Arcadia che mi è piaciuto un sacco ma ve lo beccate allora 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 si cambia totalmente argomento totalmente 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 guardare i pixel davvero Sambonelli davvero davvero e mi piace molto il sottotitolo ieri avevo chiesto a Mauro in live siccome non l'aveva mi puoi mettere al volo un sottotitolo ma semplicemente per una questione visuale e il sottotitolo è qualcosa che adoro l'opera nell'epoca della sua non riproducibilità tecnica è molto molto interessante molto interessante molto molto interessante e lo leggiamo lo leggiamo e ringrazio Mauro per l'articolo qualche anno fa stavo ristrutturando il mio appartamento e ho scoperto che sotto la volta vogliamo zoomare si vede bene se faccio uno zoomino in più che succede? eccessivo eccessivo no eccessivo non mi piace qualche anno fa stavo ristrutturando il mio appartamento e ho scoperto che sotto la volta si nascondeva un affresco restaurarlo mi sarebbe costato quanto tutta la casa quindi l'ho coperto con una mano di pittura bianca ma da allora mi è sempre rimasto un dubbio e se quell'affresco fosse un'opera d'arte ultimamente il mio parlare di videogiochi su youtube mi ha fatto tornare in mente quell'affresco coperto lavorando ad una serie su Final Fantasy 7 videogioco uscito nel 1997 e classico fondativo della storia dei videogiochi devo dire che non so se lo riterrei fondativo è sicuramente un classico fondativo forse è un aggettivo che non avrei utilizzato per Final Fantasy 7 1997 ma io devo sempre cagare il cazzo non va benissimo della storia dei videogiochi prima ancora di cominciare a ragionare sul contenuto mi sono trovato di fronte ad una domanda avrei messo piuttosto a una domanda apparentemente di natura pratica con quale versione giocare nei 23 anni trascorsi dall'uscita del gioco sono state fatte molteplici riedizioni di Final Fantasy 7 da qui in poi FF7 non tutte oggi reperibili versione PC del 1998 presente la mia versione PS3 e PSP del 2009 versione PC Steam del 2013 PS4 iOS del 2015 Android 2016 Switch Xbox One del 2019 ognuna di queste riedizioni ha portato modifiche al materiale originale dalla traduzione alla resa visiva dalle font si dice le font o è un errore sono troppo ignorato non lo so dai font dal font le font le font un po' francese si dice scusate ma sono capra dalle font all'interazione uomo-macchina ah ok 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 grazie mille grazie mille ok dalle font scusate all'interazione uomo-macchina è auto evidente che giocare su mobile richiede delle interfacce dedicate scelgo di usare il termine riedizione al posto di porting l'adattamento di un software per altri sistemi per esempio da PS1 a PC perché nel quotidiano mi occupo di grafica editoriale e il mio mestiere è dare forma ai libri il feticcio culturale per eccellenza questa è una cosa che mi è molto piaciuta questa annotazione il feticcio culturale per eccellenza quanto vero quanto vero e quanto visto che abbiamo parlato di Umberto Eco quanto era il feticcio di Umberto Eco bibliofilo feticista del libro fan collezionista insomma capiamoci questo mi porta ad affrontare il problema pratico della versione da giocare con un interesse filologico come se stessimo parlando di un manoscritto quale versione rappresenta di più le intenzioni degli autori questa domanda è bellissima quale versione rappresenta di più le intenzioni degli autori cosa si perde nelle riedizioni cosa si guadagna quanta malizia commerciale c'è in queste operazioni e quanto invece sono funzionali alla diffusione dell'opera le due cose ovviamente non si escludono la vicenda e soprattutto cos'è considerabile originale nell'era della riproducibilità tecnica a maggior ragione se si parla di un software figo bellissimi spunti bello 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 mi piace e qui abbiamo questa bellissima immagine un confronto tra le principali versioni di Final Fantasy 7 in tutte le riedizioni sono state alterate le proporzioni dell'immagine e il viso di Iris è più largo tutte domande spinose quindi mi sono rivolto alla tecnica per darmi una risposta provando ad osservare il contesto invece che l'artefatto stesso Final Fantasy 7 è stato pensato per essere guardato e interagito con un joystick specifico collegato ad una playstation 1 a sua volta collegata ad un televisore a tubo catodico se volessi replicare l'esperienza originale dovrei procurarmi queste attrezzature ma il mio obiettivo è diverso come si può condividere con altri in questo caso tramite youtube l'esperienza originale di un videogioco come Final Fantasy 7 quando ci troviamo in un mondo di schermi che non sono più a tubo catodico qui apro una parentesi che sicuramente all'autore dell'articolo che ho visto prima è assolutamente ovvia un televisore a tubo catodico e chi oggi fa stavo per dire emulazione ma in realtà chi fa retro gaming cercando la fedeltà lo sa benissimo quale televisore a tubo catodico perché un diverso televisore a tubo catodico cambia tutto cambia veramente tantissimo è un punto anche solo nel 1997 noi ci potremmo chiedere qual è il modo giusto e più fedele di giocare a Final Fantasy 7 e fosse anche ancora di più fosse ancora di più altrettanto fosse pale NTSC figurati su PC i monitor dei PC io io seguo su Instagram e per questo devo ringraziare Fossetti seguo su Instagram Retro Bigini che è una bellissima pagina Instagram lui fa questi questi lavori di illustrazione in cui fotografa schermi CRT e tu lo paghi per farti fare il quadro del tuo videogioco preferito proprio di una schermata spesso sono videogiocchi anche a firme e cose del genere ma io non me ne intendo minimamente poi ci sono anche canali che se ne occupano eccetera io non me ne intendo minimamente ma è allucinante ve lo voglio far vedere è allucinante la la ricchezza di dettagli e la varietà possibile di dettagli se voi andate a vedere delle foto che fa lui vorrei proprio se riesco ci picco non riesco a fare una fava perché non me ne fai vedere di più perché sono off instagram vorrei farvi vedere se ne clicchi una vediamo questo e vai ragazzi voi andate andate su questo su questo su questo profilo qui andate a vedere scorrete le serie se volessi replicare l'esperienza originale dovrei procurarmi queste attrezzature ma il mio obiettivo è diverso ok il discorso youtube esatto e gli schermi che non sono più catodici a tubo catodico stiamo parlando di un settore particolare ovvero quello del retro gaming che è sicuramente in espansione ma dal futuro poco prevedibile gli scenari possibili mi sembrano due si potrebbe ricominciare a produrre tubi catodici come si fa per i vinili in realtà non vorrei dire una stronzata non vorrei dire una stronzata ma in realtà già si fa già si fa di esistono ditemi se dico una cazzata ma mi pare che proprio retro bigini ne parlasse di recente esistono dei tubo catodico per appassionati di oggi fatti oggi per appassionati di oggi per retro gaming principalmente esatto danni mira esistono quei prodotti e lui specificava come poi non sia così un facile sacro graal nel senso bisogna un po' vedere insomma stiamo parlando di un settore si potrebbe ricominciare a produrre tubi catodici come si fa per i vinili e lui diceva occhio che poi per avere la cosa fedele è un casino io sto leggendo quest'articolo anche perché ho una non un'obiezione ma da retro gamer non fanatico e da vecchiaccio ho un pensiero che dopo vi voglio vi voglio esporre spero di ricordarmi se potrebbe ricominciare a produrre tubi catodici ok questa però è un'opzione un po' implausibile dato che i vinili hanno perdurato grazie ad una qualità intrinseca ad oggi imbattuta in realtà questa cosa non è vera ma è già stata fatta notare nei commenti in realtà è una tipologia di qualità non è una qualità imbattuta data dal dallo sfregamento che così è un suono per fare ma in realtà in realtà il parallelo con i vinili è perfetto è veramente perfetto perché non è che siano più qualitativi ma sono quella cosa lì quella cosa particolare mentre gli schermi a tubo catodico sono stati superati dal punto di vista e va bene questa parte quindi non ci interessa tanto è più probabile invece che la tecnologia vada del tutto perduta e la riproduzione dell'esperienza originale diventi per i pochi che hanno a disposizione l'attrezzatore giusto per giocarci ecco io qui non sono in tutto accordo secondo me il tubo catodico vinile potrebbe essere una strada addirittura percorribile a me non stupirebbe che finisse per essere una cosa che ci ritroviamo però poi bisogna vedere quanto mercato c'è però già lo si sta percorrendo non è da escludere che un giorno questa cosa questa cosa succeda esattamente il vinile è un feticcio da un punto di vista sonoro ok voglio andare avanti con la lettura scusatemi devo avere schippato della road io non mi trovo più qualunque sia il destino del retro gaming dove peraltro anche al variare del tipo di tubo catodico varia l'esperienza esattamente mi chiedo se sia possibile far convivere l'originale con una tecnologia diversa senza la mediazione spesso infedele delle riedizioni ovvero per continuare a scomodare Benjamin come ovviare alla non riproducibilità tecnica è qui che viene in aiuto la pratica perché tubi catodici e monitor moderni hanno un elemento primario in comune i pixel un'immagine a schermo a prescindere dal formato jpeg, png, amphiforia eccetera è definita da due parametri dimensione in pixel e risoluzione il pixel in sé può cambiare nella resa in base al monitor ma come unità di misura è invariabile a variare in base ai dispositivi è la risoluzione semplificando la risoluzione alla densità di pixel contenuti in un determinato spazio un parametro che viene però spesso sottinteso portandoci a un uso improprio del termine e soprattutto a confusione la maggior parte degli schermi attuali ha una risoluzione di 72 punti per pollice giusto? inch pollice sì pixel per pollice ma io perché è scritto qui pixel per pollice ovvero in un pollice di schermo ci sono 72 pixel quando su youtube selezioniamo la qualità 360 pixel stiamo selezionando un termine improprio perché la qualità è un parametro interno allo schermo quello che selezioniamo su youtube è una quantità ovvero quanti pixel di quel video mostrare sul nostro schermo se la quantità di quei pixel corrisponde alla disponibilità di pixel del nostro schermo allora avremo un'immagine nitida allo stesso modo un'immagine fatta di 1000 pixel apparirà più o meno grande in base alla risoluzione dello schermo e queste sono tutte cose che sappiamo grosso modo e qui c'è questo bellissimo esempio a 72 dp eccetera torniamo alla playstation la ps1 genera immagini grandi 240p questo materiale sorgente nelle riedizioni può diventare 720 1080 2440 l'immagine viene quindi ingrandita e l'ingrandimento avviene attraverso un processo chiamato upscaling il modo più semplice guardate che al di là uno dice ma come guardate questi sono concetti filosoficamente meravigliosi cioè da un punto di vista una persona interessata di filosofia filosofia analitica eccetera va nei matti per sta roba è bellissimo questo discorso perché in realtà sono sono concettualizzazioni non è soltanto come emulare Final Fantasy emulare non è la parola giusta ma è un un vero problema concettuale molto interessante e dopo voglio dire la mia e l'upscaling il modo più semplice per descriverlo è usando la metafora del cesto e delle mele tanto cara la matematica le mele sono i pixel mentre il cesto è il televisore ipotizziamo che un'immagine si è composta da 20 mele che riempiono perfettamente il nostro contenitore le mele corrispondono al singolo pixel dell'immagine che esce dalla PS1 mentre il contenitore è il tubo catodico con l'upscaling la stessa immagine che rimane di 20 mele deve riempire un contenitore più grande mele PS1 e qua invece lo schermo contemporaneo però la densità del monitor non può cambiare quindi possono succedere due cose o le mele vengono gonfiate e diventano più grandi perdendo di definizione e apparendo sfocate oppure vengono aggiunte altre mele che sono inventate quelle arancio l'upscaling è l'invenzione delle mele finte barra arancio nel caso del passaggio da PS1 a full HD per ogni mela pixel sorgente bisogna aggiungerne 4,5 inventate l'aspetto affascinante è che questa invenzione viene fatta dalla macchina dal software seguendo diversi algoritmi più o meno sofisticati ma che generalmente diventano poco affidabili una volta superato l'ingradimento del 130 150% nel caso di un gioco PS1 su un televisore HD parliamo di un ingrandimento del 450% il problema il problema non si pone o si pone in misura ridotta nel caso di immagini stilizzate come tutte quelle antecedenti alla modellizzazione 3D antecedenti poi dipende cioè antecedenti possono in realtà anche essere state fatte che esisteva già la modellazione 3D però diciamo che sono in realtà sono poi cose che sono esistite in parallelo per un sacco di anni comunque le immagini 2D erano pensate a monte per quadrati solidi e senza sfumature quello che oggi noi chiamiamo pixel art e questo lavorare esclusivamente per quadrati a campitura piena le rende praticamente immagini vettoriali beh giusto praticamente immagini vettoriali è veramente accurato io faccio dei grandismi complimenti all'autore ovvero svincolate dalle dimensioni in quanto definite da vettori sei tu straniero imprudente sei tu ah no scusami l'autore era 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 qui in chat prima beh comunque insomma chapeau chapeau come direbbe il buon Mike allora Mab sei tu maledizione Mabludens grazie mille 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 in questi casi per effettuare l'upscaling delle immagini si può usare l'algoritmo nearest neighbor neighbor che lavora matematicamente e per prossimità e questo dopo lo spiegherà perfettamente chi ha usato un po' photoshop dove ogni pixel di un dato colore ne aggiunge x identici nelle immediate vicinanze ok permettendoci di variare le dimensioni di queste immagini quasi senza perdite ok le prende dalla vicinanza per esempio terra di Final Fantasy 6 può essere ingrandita praticamente all'infinito cosa che rende abbastanza sospetta l'operazione di rifacimento pixel perfect della Square Enix qua abbiamo l'esempio l'ingrandimento però non è altrettanto semplice quando si tratta delle prime ah qui quando si tratta delle prime opere di sperimentazione 3D in quanto utilizzano modelli poligonali che si muovono su fondali pre-renderizzati ovvero modelli 3D che interagiscono con immagini bidimensionali che sono fondamentalmente pittoriche i modelli poligonali possono essere renderizzati alla dimensione prescelta senza perdere dettaglio ma lo stesso non vale per i fondali soprattutto se si è perso il materiale originale come spesso succede ne risultano ri-edizioni mediocre dove si perde molta della coerenza visiva vengono alterate le proporzioni i modelli non si integrano più con i fondali dato che questi sono sfocati nettamente meno definiti dei modelli 3D si vede ad esempio in l'ultima remaster di Final Fantasy VIII o ancor peggio vengono applicati filtri che ammorbidiscono l'immagine per renderla simile a querellata rovinando la qualità pittorica nei casi più eclatanti si fa un mix di questi espedienti ridisegnando in stile diverso alcuni elementi esattamente qua vediamo Final Fantasy VIII nella remaster di Final Fantasy VIII a destra i modelli 3D sono stati aggiornati mentre i fondali sono stati sfocati rispetto alle versioni precedenti notate la differenza nei dettagli degli alberi sullo sfondo oppure provate a contare i gradini nelle scale sinistra e destra nella versione destra gli ultimi scalini sono molto meno identificabili e qui abbiamo terra in versione Final Fantasy VI Super Nintendo e versione Steam ridisegnata ci sono poi i casi dove e qui la famosa Moguri Mod del Final Fantasy IX ci sono poi i casi dove dei fan volenterosi i modder cercano di ovviare alla mediocrità dei produttori restaurando per conto proprio i fondali l'operazione di upscaling in questo caso viene effettuata è qui che c'era quella baza viene fatta utilizzando algoritmi più complessi tramite cui la macchina cerca di dedurre i pixel da inventare basandosi sul contesto cioè sui pixel reali che trova nelle immediate vicinanze provando ad interpretarne il contenuto concettualmente non è diverso da quello che succede con gli strumenti di fotoritocco che si usano per eliminare nei e imperfezioni dai volti in cui il software ricostruisce la pelle pescando i pixel nelle vicinanze un caso ammirevole di queste mod è la Moguri Mod che ricostruisce i fondali di Final Fantasy IX tuttavia per quanto avanzato possa essere l'algoritmo su immagini fortemente pittoriche si introducono inevitabilmente deformazioni le macchine non sono in grado di gestire bene pattern parallelismi linee quantomeno non senza sporcare l'immagine questa immagine è fantastica se la metto a schermo intero beh si si vede in realtà si può anche zoomare poi di più guardate qua il dettaglio e gli algoritmi di upscaling non gestiscono bene i parallelismi linee particolari isolati il cancello a sinistra è storto e con le sbarre sbilenche il fogliame destra appare smangiucchiato interessante eh bellissimo vederlo così veramente bello che fare quindi al momento la soluzione migliore è registrare un'uscita video direttamente dalla console con dispositivi che trasformano i segnali da analogico a digitale ma parliamo di attrezzature costose e prodotte esclusivamente oltreoceano dove peraltro gli standard produttivi delle tv erano diversi e infatti un tempo esistevano rispettivamente versioni ntsc e pal l'alternativa sono i software di emulazione ma anche lì il terreno è scivoloso e complicato da gestire qui nei commenti è stato fatto notare che lui ha sbrigativamente liquidato il discorso emulazione in realtà il discorso emulazione meriterebbe cioè secondo me ci può anche stare liquidare nel senso che meriterebbe un articolo a parte e c'è tutto il discorso dei filtri nell'emulazione e poi bisogna vedere che emulazione si intende insomma è un altro montagna di discorsi volendo però insomma non è che si può mettere tutto con entrambe queste soluzioni bisogna considerare anche il fatto che le linee di scansione del tubo catodico avevano la funzione di rendere omogenea l'immagine nonostante la bassa definizione un po' come viene in fotografia con la grana e infatti la grana è spesso un'opzione selezionabile nei videogiochi contemporanei eh ma ci sono tantissime cose tantissime cose che possono essere sviluppate tantissimi discorsi ci sono poi giochi basati su interfacce uomo-macchina ora non più disponibili Metal Gear Solid 2 e 3 sfruttavano i pulsanti analogici dei controller quindi sensibili alla pressione e ad oggi possono essere giocati solo su Playstation 2 e Playstation 3 entrambe fuori produzione così si fatti possono essere giocati soltanto su Playstation 2 e Playstation 3 entrambe fuori produzione a breve non saranno più reperibili i controller con i pulsanti analogici come si replicherà quell'esperienza questo è l'aspetto tecnologico ma va valutato anche l'aspetto culturale nel momento in cui nel momento in cui ogni versione ha una traduzione diversa e non creditata di Final Fantasy 7 qual è la traduzione corretta di Final Fantasy 7 semplicemente ce ne sono tante i rifacimenti evidentemente non sostituiscono gli originali ma siamo sicuri che vista l'obsolescenza delle attrezzature sul lungo periodo di fatto non succeda che gli originali cadano nell'oblio Final Fantasy 4 andrebbe giocato in 2D su Super Nintendo o nella versione 3D del Nintendo DS dove l'ho giocato io interessante porsi domande del genere è chiaramente diverso dal chiedersi se un classico Disney vada guardato in VHS o Blu-ray che poi fino a un certo punto ma non è diverso dal chiedersi se della trilogia Star Wars sia più originale la prima versione o quella ma sicuramente la prima o quella restaurata dove è stata cambiata la scena e non solo sono state fatte una marea di cambiamenti ed esistono le versioni tra l'altro esistono online e lo saprete perfettamente esistono online le versioni originali di Star Wars ma upscalate dagli fan esperti bla 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 per essere full HD ma delle robe allucinanti per cui tu hai veramente lo Star Wars da sogno ma full HD quello prima che Lucas avesse la folle idea di andare a mettere le mani quel beota che eppure è lui e quindi c'è la famosa gag la prima versione o quella restaurata dove è stata cambiata la scena della sparatoria nel bar di Han Solo contro il cacciatore d'Italia qui più che altro più che chiedersi quale sia la versione originale è giusto chiedersi quale risulterà nel tempo essere percepita come la versione originale in una versione spara per primo Han Solo uccidendo in un'altra spara per secondo difendendosi che è una differenza abnorme infatti viene anacquato il personaggio totalmente violentato da quell'editing una cosa inaccettabile orripilante Han Solo farò il nostro Han Solo viene veramente gli si toglie l'elemento non voglio dire malvagio ma gli si toglie l'elemento pericoloso di lupo solitario che pensa alla propria sopravvivenza è un piccolo dettaglio ma stupra completamente il personaggio una cosa veramente di uno stupido che io non riesco neanche a concepirla porca miseria vabbè stiamo tranquilli sì la canaglia da una dimensione di una persona che può anche dare la morte per un sospetto per una per una sensazione per una prudenza insomma è un criminale Han Solo poi ha un cuore sì lo scopriremo un po' alla volta esattamente ci si potrebbe chiedere culturalmente quale sarà la più conosciuta ad esempio esatto decrypter come è if you have to shoot shoot don't talk no come è che diceva assolutamente sì Tsuji assolutamente sì giustissime osservazioni giustissime è interessantissimo questo discorso ragazzi ragazzi il diavolo sta nei dettagli bellissimo bellissimo quale rimarrà la storia esattamente esattamente sì qual è la versione filologicamente corretta certamente la prima o per stare nei videogiochi quanto è lecito intellettualmente onesto il fatto che Yoko Taro e company abbiano aggiunto un finale extra nella remake remaster di Nier Replicant a dieci anni di distanza finale che però non esisteva nell'originale in realtà è una cosa che possono fare assolutamente liberamente è una nuova versione qui ci preoccupa davvero che cosa ne sarà dell'esperienza originale sarà conservata e come e per chi ricordata da chi assassino o legittima difesa hai detto niente possono sembrare domande frivole ma in un mondo di versioni e franchise dove gli autori sono i primi a non voler essere considerati tali forse bisognerebbe chiedersi a chi appartengono culturalmente piuttosto che legalmente le opere altrimenti non saranno mai opere bensì solo software Snake è quello di Metal Gear Solid o quello di Twin Snakes Snake è di Kojima è di Konami è nostro legalmente è di Konami per ora ma culturalmente beh culturalmente è di chiunque nel senso che la cultura non ha proprietari in questo senso quindi Snake fa parte della cultura di chi lo conosce naturalmente e quindi di chiunque lo possa utilizzare come segno però ovviamente la questione della proprietà della proprietà legale si frappone fra il poterlo riutilizzare a piacimento sicuramente l'originale è ben identificabile e nel caso di Snake abbiamo proprio un esempio di un videogioco estremamente autoriale in cui l'autore fa tutto meno che nascondersi però certamente ci si potrebbe chiedere qual è il ruolo del restauratore qual è il ruolo del filologo anche in ambito videoludico non è un ruolo autoriale non dovrebbe essere un ruolo autoriale in realtà l'autore del remake del remastered plus e via e via cantando sarà sempre per forza un autore autorizzato mi viene da dire Snake della Nokia è effettivamente un serpente la storia dei videogiochi è abbastanza recente ma non così recente da ignorare questioni come la conservazione delle opere anzi per via della complessità tecnologica che è stata assolutamente resa chiara da questo articolo la conservazione delle opere è particolarmente stronza nel medium videoludico è un medium particolarmente stronzo da un punto di vista della conservazione è molto complicato da un punto di vista della filologia proprio perché filologia sai non la puoi fare soltanto con gli occhietti a un certo punto la dovresti fare con le manine ma non è facile mettere le manine sui pezzettini giusti interessante questa cosa bello ma poi ho un'obiezione mi devo ricordare che devo dire una cosa soprattutto in un contesto in cui all'industria non interessa mantenere in circolazione l'opera originale quando può fatturare con le riadizioni e in generale l'industria non ha interesse a considerare le opere come tali è sempre commercialmente più conveniente trattarle come IP proprietà intellettuali franchise poi qui dovremmo capirci perché poi sì è vero che è così ma come posso dire nel momento in cui vedi discorso vinile il feticismo dell'originale avesse grande mercato può diventare conveniente comunque allo stesso tempo però questo potrebbe essere un boomerang per l'industria dal momento che i videogiochi non rientrano nel diritto d'autore bensì nel copyright da software e hanno una durata legale inferiore rispetto ai 70 anni del diritto d'autore classico vedi gli abandonware vedi il discorso degli abandonware crash non avevano accesso al codice originale hanno dovuto tempificare alcuni salti a mano il che ha portato a non fare esattamente lo stesso gioco pensa pensa a te pensa a te certo Andrei certamente sì certamente sì anche perché chi sarebbe l'autore è sempre un'opera e qui in realtà l'autore è il proprietario del copyright nel senso l'autore è Kojima ma Metal Gear Solid è di Konami e Kojima è Kojima zitto cioè è peso certo certo parte a me molto cara del mio corpo certo che sì chi sarebbe l'autore è sempre un'opera estremamente di concerto dove i singoli professionisti cedono i diritti ai produttori dubito che Nojima percepisca royalties sulla sceneggiatura di Final Fantasy VII non lo so in realtà magari sì ma comunque sì capisco che cosa si intenda cosa che per esempio non succede con alcuni sceneggiatori cinematografici non è da escludere quindi che un giorno potremo avere la stessa opera curata da editori diversi magari un giorno avremo un Metal Gear pubblicato da qualcuno che non è Konami un Final Fantasy VII tradotto da persone diverse così come oggi abbiamo l'Odissea tradotta da Calzecchi Onesti o da Di Benedetto o ancora potremmo avere e questa cosa mi ha fatto venire i brividi qui ho avuto i brividi dalla bellezza di questa intuizione o ancora potremmo avere un Dark Souls reinterpretato da altri autori come abbiamo avuto Dune di Lynch o Dune di Villeneuve ma brividi? ma che cosa meravigliosa è questa? ma ve lo immaginate? ma che cosa fantastica è bellissimo bellissimo a me vengono i brividi a pensare a queste cose che prospettive cosa sarà dei classici? no? quanto saranno riscritti rieditati ah che cosa quanto a un certo punto diventerà la prova di uno studio di un autore che gestisce uno studio misurarsi ah l'avete visto il Macbeth del fratello Coen è rimasto? ma l'avete visto il Dark Souls di Tizio Caio? oh ma io invece preferisco il Dark Souls che ha fatto lui ma ve lo immaginate? ma quanto è bella sta cosa? ma quanto cacchio è bella sta cosa? non lo so è una cosa stupefacente bellissima bellissima Luca non per piacere mi stavo emozionato subito subito mi devi smontare per piacere sogna grazie in un certo senso con Tetris è giusto è giusto è giusto è giusto ci sei tu Luca e avrai molto lavoro da fare per tornare al mio soffitto forse c'è un fraintendimento di fondo è abbastanza sodato che il medium contiene in sé il messaggio McLuhan tuttavia che poi subito citato sotto come Benjamin prima tuttavia tendiamo a considerare il videogioco come medium in assoluto a prescindere dai supporti quando in realtà non è così a volte pensiamo vabbè è una sequenza di 0 e di 1 beh ok ma giocare su mobile è diverso da giocare su pc giocare su un 40 pollici ultra hd è diverso da giocare su un tubo cattodico accettereste Elden Ring come esclusiva per cellulari allo stesso modo guardare un film al cinema è diverso da guardarlo sul divano di casa propria cinematografica e 35 mm in casa un affresco è diverso da un dipinto ad olio su tela pur rimanendo nell'ambito della pittura figuriamoci vederlo in originale piuttosto che su un testo di storia dell'arte se siamo capiti il supporto conta ancora di più nel momento in cui gli artefatti non sono reali ma virtuali non c'è un originale fisicamente presente da qualche parte quella che un tempo era la matrice del pittore ora è stata sostituita da un codice sorgente questo ruolo del supporto è ancora più impattante nel momento in cui non è scontata la riproducibilità tecnica intesa non come produzione in serie di copie fisiche come era stata ragionata da Benjamin ma piuttosto come decodifica di un'entità digitale che in quanto tale non ha bisogno di duplicate ma di strumenti per convertire gli 0 e 1 in immagini visibili io ho coperto l'affresco di casa mia perché non era un'opera beh com'è se era un cazzo di capolavoro ma se era un capolavoro totale giusta è la domanda iniziale ma se lo fosse stata e se un giorno senza che ce ne accorgessimo tutti gli affreschi disparissero ci rimarrebbero solo le stampe le foto le scansioni di quegli affreschi non è diverso dalla questione delle versioni dei videogiochi quanti di noi hanno ancora una ps1 funzionante quanti di noi hanno un cabinato di pacman quanti di noi sanno e questo è in realtà importante cosa sia un cabinato e quindi potranno avere un desiderio difficile prevedere come andrà nel frattempo sta a noi essere consumatori esigenti guardare i pixel con occhio critico ci può stare io intanto chiamo mia madre sperando che non abbia buttato via il mio vecchio tubo catodico se sì ne pa e qui ci starebbe in francese un claude bello 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 grazie 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 bello 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 mi è piaciuto mi è piaciuto bello 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 proprio un gusto l'ho letto con un gusto questo articolo ma con un gusto contento veramente contento grazie mille che cosa volevo dire c'è una il filosofo caga cazzo a questo punto si fa una domanda ulteriore io ragazzi parlerei di retro gaming io vi cioè ve lo giuro anche meglio cioè il retro che poi io non sono un feticista per niente per nulla non sono un collezione mi frega un cazzo però è un tema che per me ha un sapore meraviglioso allora qualcuno di voi pochissimi e sono numeri pochissimi di voi e arriva l'obiezione ma non è un'obiezione in realtà è un'espansione pochissimi di voi ricorderanno che cent'anni fa qui ed è reperibile nelle raccolte di Twitch di Wesa Twitch qui su questo canale streammai sono troppo contento streammai Super Mario World il gioco che inconcepibilmente IGN ha messo al secondo posto cosa si sono sognati di metterlo soltanto secondo nei giochi migliori di tutti i tempi ora io streammai Super Mario World e ogni volta c'è uno sguardo dal cielo quando streammai Super Mario World lo emulavo con SNES no era ZSNES mi sembra era ZSNES e ci fu subito un'alzata di scudi potete bannare Fenix grazie ci fu subito un'alzata di scudi perché io misi un filtrazzo di quelli urendi che HD diciamo squallidi di quelli che rendono tutta l'immagine tutta l'immagine un po' che però sembra alta definizione ma veramente di quei filtri volgari brutti perché mi giustificai all'epoca e chi vuole andare e chi recupererà si ritroverà la mia giustificazione perché misi quel filtro perché io volevo vedere Super Mario World come me lo ricordavo io non volevo Super Mario World tubo catodico io volevo la mia memoria di Super Mario World la fedeltà di una riproduzione che cosa che cos'è quando è che una riproduzione è fedele il nostro occhio immagino spero diventi sempre più clinico e sempre più critico cambia cambia con gli anni lo stesso gioco emesso dallo stesso hardware è diverso oggi rispetto a come era trent'anni fa il nostro ricordo perché noi retro giochiamo perché lo facciamo ah filologia sì 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 per rivivere un'emozione a me a me non interessa come era davvero Super Mario World per questo io non sono un un accumulatore di hardware per il retro gaming salvo quegli SNES presi a finalità speculativa non per questo non me ne frega nulla in realtà più mi sembra l'emozione quindi quello che mi sembra di ricordare più è è quello che io cerco dal retro gaming quello che è stato raccontato in questo articolo non è importante di più è fantastico ed è totale cioè sono totalmente pro alla ricerca della fedeltà da un punto di vista tecnico ma oltre il pro trovo una cosa bellissima un mondo che io adoro e promuovo cioè è fantastico però perché non desidero in un certo senso farne parte o acquisire e acquistare strumenti perché in realtà non è giustamente è un discorso molto soggettivo parlo per me non è la mia finalità a me non interesserebbe avere beh da un punto di vista fisico avere il cabinato di Daytona USA altro gioco totale per la mia vita sì ok il cabinato quella sensazione ma sarebbe diverso ma non mi interessa avere il pixel perfect non me ne importa niente se c'è una deformazione che assomiglia di più a come mi sembra di ricordarmelo quello è il mio retro gaming e quindi la ricerca del pixel perfect per me è fondamentale perché è necessaria una storia una filologia del videogioco fondamentale bellissimo anche per nobilitare il medium ma il retro il silicon arcadia era un libro anzi no era un sito e poi divenne un libro e il sottotitolo del libro che non esiste più in commercio era retro gaming emozionale per me quello è retro gaming sapete no come funziona il CRT quindi comunque tu non hai sono terribili gli emulatori pixel perfect perché hai quadratini noi non vedevamo le immagini così squadrettate anzi erano parecchio sinuose smussate sarebbe più giusto dire ma nel nostro occhio in cui non esisteva nessun full hd eccetera eccetera la percezione del del jana sisters che è tutto così squadrettatino pensate all'amiga la nostra percezione era un'altra cosa prima eravamo bambini scemi ma che bello e secondo non avevamo il nostro facevamo wow con delle cose molto più più sempliciotte e è quello è quello il mio super mario world ideale è un super mario world che arrivi ai miei occhi come arrivava super mario world all'epoca ovvero un gioco che non aveva nessun nessun imbarazzo da un punto di vista della resa visiva perché era lo stato dell'arte capite cosa voglio dire è una missione impossibile per questo è bello poi che gli emulatori abbiano così tanti filtri è una missione impossibile in cui sei sempre alla ricerca di dov'è che sento dov'è che inizio a sentire il sapore della Madeleine Rosabella Rosebud dov'è dov'è e in un certo senso Citizen Kane l'esperto retrogiocatore che giustamente con grande maestria si riempie casa di strumenti per il retro gaming sta cercando Rosabella sta cercando la sletta di Citizen Kane e io la cerco quando metto sull'emulatore e metto i filtri più volgari perché voglio risentire una grafica che non era in imbarazzo era Super Mario World cosa posso dire di quel gioco non può essere toccato non può essere toccato quel gioco Dio 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 che roba meravigliosa capite è è bello ha una sua nobiltà di lavoro dello storico del filologo meravigliosa il mondo dei videogiochi ti mette nei casini perché non esiste neppure in un certo senso non esiste neanche il supporto originale qual era il CRT a cui pensava e qui siamo nell'intenzione dell'autore Vallo Tua non c'era a cui pensavano gli stronzi di Squaresoft che cazzo capite non lo so è la colomba color arancio grazie Meloppius qualcosa di così non lo so è qualcosa di così affascinante noi ci abbiamo lasciato gli occhi e l'anima su quei videogiochi ragazzi se io avessi qui esattamente il mio Super Nintendo ancora funzionante con il mio Super Mario World della TV a cui giocavo non funziona era un Sony 14 pollici ah non funziona no 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 non è quello non è quello però bellissimo 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 importante articolo e discorso quante emozioni oggi quante emozioni ragazzi una live piena di emozioni mi sono emozionato moltissimo esattamente Luolan esattamente esattamente sì assolutamente sì in realtà io l'ho preso in bundle era in bundle con il Super Nintendo Natale 1992 ma come già accennavo in un articolo che sta qua su Silicon ma è solo accennata come cosa l'immagine che per qualche ragione ricondita per me è la più nostalgica assieme forse a qualcosa sull'Amiga forse quel Super Squeak per Amiga forse è la mia Rosebud ma io ho questa immagine Mario Circuit 1 Super Mario Kart gioco di Dio mamma mia ma che cazzo che cazzo di infilata di giochi super Mario Kart Mario Circuit 1 vai dritto alla prima curva la seconda e loro hanno questi fondali che sono fissi tipo che cazzo oltre il Mod 7 fa questa specie di beat mappone che viene scratchato sotto di te e tu hai i tuoi cosini 2D che sembra che scalano forse in realtà non scalano forse sto dicendo cazzo comunque avete capito ma ci sono questi fondali e c'è questo fondale nei Mario Circuit di Super Mario Kart in cui ci sono le collinette di Super Mario sono lontanissime con questi colorini carini e sembra che laggiù ci sia un mondo un mondo di Super Mario mi fa pensare quasi più al cartone animato che al videogioco è una cosa è come pensare al mondo di Big Blue o di Mute City in F0 cosa c'è l'intorno queste sono tra le cose che per me per ragioni totalmente folli sono le cose più più recondite a livello videoludico cosa c'è là in fondo nel Mario Circuit e poi Super Squeak i colori perché in fondo anche sulla miga cercavo il Super Nintendo Super Squeak è già ma in realtà il Nintendo viene molto dopo comunque Super Squeak come faccio a parlarvi di Super Squeak dove Cristo sono le immagini cosa devo fare per vivere immagini come faccio a parlarvi di Super Squeak è impossibile parlare di Super Squeak è impossibile capite capite perché nascono in Tendaro guardate tu sei una palletta arancione che colora di rosa le caselle qua fuori rischi di cadere nel vuoto questo è un livello superiore dove puoi salire attraverso dei tasse ogni tassellino fa una cosa questo ti fa andare in su che cazzo non mi ricordo una sega questo ti dà una spinta tipo questo imprevisto sono i nemici e tu devi colorare tutto pucciosino pucciosino questo cosino era pucciosino era puccioso guardate come è puccioso guardate la differenza con la copertina tra vabbè io giocavo a casa del mio amico che aveva l'amica aveva tutti tutti i flop piratati che l'ha mai vista una copertina di un gioco amica poi qua la versione Atari Lynx dammi l'immagine no dammi l'immagine ho appena venduto la mia anima ma dammi l'immagine comunque pucciosino c'è la faccetta pucciosina qua si vedeva meglio guardate che faccina pucciosina questi colori sapete qual è un'altra cosa sapete qual è un'altra cosa che per me è magica Team Fortress 2 sì sì tra l'altro Team Fortress 2 chi giocava Team Fortress 2 io vedevo l'altro giorno io ho il mio account Steam nasce il 31 dicembre 2007 era l'epoca dell'orange box in quegli anni lì in Team Fortress 2 c'erano delle mappe che erano arancioni spoglie avete preso qualcuno se le ricordo esistono ancora c'erano le mappe che erano di un arancione spoglio erano sembravano sembravano dei quadratoni di Super Squeak ok e il cielo azzurro e quindi non c'era c'erano anche le mappe che volevano già iniziare ad essere pseudo realiste che cazzo ne so i sassi e le cose ma c'erano queste mappe come come concettuali astratte capite cosa voglio dire e tu avevi gli otto personaggini e giocavi Team Fortress 2 e poi chissà quanto deve essere imputtanito nel corso degli anni ma qualcuno se le ricorda erano di un'essenzialità sembrava di vivere in un mondo astratto magico era bellissimo Dio Gendo dimmi che è un link a quello che sto dicendo ti supplico dimmi che ce l'hai fatto esatto esatto erano così erano così ma sarebbe bello vedendo il cielo oh cos'è no ma questa però questa è fatta questa è fatta dai giocatori questa è fatta dai giocatori mi sarebbe piaciuto dire le immagini originali sì 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 ma cazzo incredibile vedete già mi sembravano eh sì questa era proprio così qua c'era parallelamente l'altra madonna mi sembravano una cosa bellissima non l'avevo dovuto rivederla oddio era veramente così oh cazzo no ma questa è una mod oddio vedete vedete mai farle ste cose meglio questo meglio questo invecchia meglio invecchia meglio ma esistono ancora delle mappe con quella grafica ne andavo matto ne andavo matto ero già nostalgico nel 2007 ovviamente nel 2008 che sensazione che sensazione di un mondo sintetico alla F-0 Super Mario Kart Super Squeak quelle mappe di Team 4 un mondo un mondo semplificato sogni di pixel giusto sogni di pixel è stato Berlusconi ragazzi il trigger è stato Berlusconi comunque il trigger è stato Berlusconi maledetto vabbè Super Mario Kart aveva un'atmosfera grazie a Danny Mira per averlo detto sono d'accordo è verissimo Berlusconi Berlusconi wow wow ragazzi mi sono lasciato un po' eeeh decrypter ma cos'è more option uffa reggetta reggetta me li date già reggettati squeak questo è il primo loro si chiamavano l'orichel quelli che facevano squeak che meraviglia si 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 preferisci il ritorno di Berlusconi o 5 anni di Meloni Salvini Berlusconi non credo duri 5 anni quindi Berlusconi si 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 pizza si 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 ma giocarci adesso boh non è squeak originale cioè non è il mio squeak originale il mio squeak era super squeak e beh ma questo cos'è questo cos'è un qual'è la console che fa sti colori è un come cazzo si chiama è un pc è dos ok ok scusate scusate più che premere start che cosa devo fare invio 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 ega ega dimmi scusatemi non ho visto non ho visto non ho visto oh signore ma è giocabile qui? ah ci sono le rom però non lo posso giocare qui online posso fare una carriera ma per cui ho letto armstrad no 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 questo non è una mica chiudi no 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 comunque sia ragazzi dai non voglio veramente veramente farlo che viaggio che viaggio che viaggio che viaggio ragazzuoli sta live è stata un viaggio ma è molto piaciuto sono stato molto contento sono stato molto contento davvero mi è stato mi è stato mi è stato bello fare questa live grazie 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 mille voglio chiuderla perché sia non troppo lunga su Cantina Uesa non riuscirei ad aggiungere altre robe nel senso che va bene così ora diventerà un po' così domani domattina sicuramente calcino domani domani alle 15 abbiamo un sacco di cose da leggere eccetera eccetera abbiamo un sacco di roba c'è stata tanta parasocialità sì anche da parte mi è proprio reciproca a 650 sabato domani ci pensiamo domani programmiamo un obiettivo per i 650 che viaggio grazie 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 mille ragazzi state benissimo passate una bella serata mangiate una buona cena soprattutto mi raccomando domattina se volete alle 9 e mezza calcino con il Bolognina PD se no ci vediamo al pomeriggio naturalmente sono obnubilato dalle emozioni ragazzi vi abbraccio tutti davvero è stato è stato un vero piacere ci vediamo domani ciao ciao